Ciao amici, buongiorno, eccoci, avete visto c'è una novità nel canale, buon andiamoci piano, che succede? In questa colonna sonora? Ma sei meravigliosa? No, teniamola tutto il tempo, che magari per invece parlare ne metto un'altra, ma avete visto? Avete visto? C'è una piccola, piccola, piccola novità che ho finito, oh mio Dio mi piace tantissimo, devo farla sudare un po' di più, forse dei capelli, però sì, novità? Dove? Oddio, cosa c'è di nuovo? Oddio, non capisco, no, cosa c'è di nuovo? Ho finito le moti con quella che suda, l'ho fatta bene, l'ho fatta tutta bella preoccupata, sì, che bello, sono contentissima, è venuta benissimo, grazie, grazie, paffo zuccone, hai cambiato nickname, molto bene, molto bene, tutte con le cuffie, ok, che devo magari stringerle un pochettino, grazie, ho visto durante la data d'interno, mi sono chiesto, ma queste moto l'ho già vista, ah sì, avete, cioè io l'ho messa di nascosto, l'avete già usata? Molto bene, molto bene, molto bene, un po' mi manca all'estremo shake, però è bellissima, sì, in effetti potrei aggiungere un po' più di shake, però non si vedrebbe bene il cosa, mi piace che shake era solo a un certo punto, perché ferma e poi inizia a shakerare, ferma e poi inizia a shakerare, però sì, è esattamente la condizione in cui sono in questo momento, è che senza il fazzolettino che si muoveva, non aveva quella cosa in più, secondo me, bellissime emote, l'ho sgamata ieri pomeriggio, scrive, scrive, grazie, grazie, sono molto contenta che vi piaccia, vi ringrazio anche dei complimenti, sei bravissimo, come sempre, guineo, guineo, grazie, grazie mille, grazie anche a TenZero che un'ora fa regalata una sub a price, così nascosto, a gasp95 che fa un anno di sub, e andeskin che ritorna per il tredicesimo mese, al posto del sud normale che non c'è più, cosa hai messo? È una sorpresa, c'è un emoticon che sto preparando, che mi chiedete da sempre, perché effettivamente c'è lì un posticino in più per lei, piano piano troverò delle cosine nuove da mettere, pensavo di mettere un po' il dance mio, quello, voglio proprio mettere una mia mini me che balla, e non il pepino, che voglio lasciare comunque su Better Twitch TV, ma ne parleremo. Immagino quella del primo aprile animata così bruttissima, verrà bruttissima, vero che la devo animare anche? Quelle di Natale, poi, oh no, no, non l'ho ancora messa, semplicemente c'è stato questo bellissimo pomeriggio, in realtà dalla mattina al pomeriggio che ho passato a chiacchierare con Diaric, Diaricu, anzi, che appunto era venuta qua in chat qualche giorno fa, settimana scorsa, e abbiamo detto, oh becchiamoci domenica, sentiamoci, abbiamo fatto dalle 11 alle 4 di pomeriggio, più o meno a parlare, quindi 5 ore filate, e nel frattempo, siccome entrambe facciamo arte, effettivamente abbiamo detto, ma ti spiace se io lavoro? No, a te dispiace se io lavoro nel frattempo? No, no, a posto, ci siamo messi un pochettino a chiacchierare e a lavorare, e ho finito le motte, quindi sì, dovrei animare anche quelle brutte, quelle sarà molto facile animarle, farò due frame, quindi al momento di emoti con animate nuove abbiamo la mia che suda, poi c'è quella di gatto, questa qua con gli occhietti che mi fa spaccare da ridere, che anche sono due frame e basta, rende l'idea, secondo me, rende l'idea preoccupatina, che è come il sud, però è più, ok, va bene, se lo dici tu, chiaro, no, chiaro, è quella che mi manda sempre, gatto, ciao gatto, buongiorno, oggi è un'ottima giornata, se lo dici tu, io non ci credo, eh, anche il Gabriel Segna gli ho consegnato, sì, 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 ne sto dando un pochettino così di nascosto, tieni Queen, ti è creduto questo, oh, grazie, grazie, la mia bandierina, la bandierina del Pride Crown, oh mio Dio, è la bandiera del, perché il transgender non ha il blu, ha tipo l'azzurro, quindi quello è il bisessuale, credo, voglio essere molto brava a riconoscere le bandiere, Eleven Cup, grazie di tre anni di sub, Eleven Cup, auguri a noi, mi accompagnate in un periodo così lungo in cui sono cambiato tante, neanche grazie a te, torno in l'ur, grazie mille a te dei tre anni, sono tantissimi, sono tantissimi, vediamoci in fiera, qui mi sub più noi, facciamo una cena assieme, bellissimo, mamma mia quanto mi mancano le fiere e le cene assieme, non ricordavo di seguire questo canale, ma mi sembri molto carina, ti ringrazio, ti ringrazio, sono breve presentazione, illustratrice, emot artist, che però ultimamente vuole solo giocare ai videogiochi, perché sta facendo troppo l'iperattività, mi ciuccia via tutta l'energia, e quindi voglio rilassarmi un pochino quando sono in live e fare dei giochi che altrimenti non giocherei, però sì, ce ne posso venire, ma certo, sei il meme master, certo, oggi ho mangiato sabbia, wow, che dieta stai seguendo, dimmi un po', ciao Mirko, ben arrivato, ciao a tutti amici, ciao a tutti, le Gil, ciao bellissimi, buonasera, hello le Gil, buonasera carini, è arrivato anche l'Audi, c'è un voto di gente, sono contento, in parole povere è l'essere perfetto, chi io, no, se parli di me, no, se parli invece di Doja Cat, che nell'ultima rappresentazione delle sue canzoni ha deciso di non utilizzare nessuno dei suoi set precedenti che già erano molto costosi, ma di farne un altro e volare durante la sua esibizione, sì, probabilmente Doja Cat rappresenta l'essere perfetto, in questi giorni ho, e così se ne muo tarti, sì, sì, no, ma disegni per, sì, ma niente di serio, non è che mi, cioè, quindi paghi le tasse, sì, ma niente di serio, non ha senso, vai tranquillo, così per scherzare, per ridere, come ho passato questi ultimi giorni? Ho ripassato come uno stesso il discorso del TED, che è questa settimana, questa settimana, Ah, mi cago addosso, sono mega in ansia, però speriamo, guarda, tutto bene, lo sto sperando col cuore, sono gasata, sono in ansia, sono tesa, sarà come dare un esame, però immagino che ci si divertirà tantissimo, non conosco nessuno degli altri speaker, quindi ci presenteremo tutti lì, immagino, lì sul posto, la cosa, mi ha chiamato Mirko, e non Micro, questa è una data da ricordare, no, dai, non è vero, non è la prima volta che lo faccio giusto, dai, che andrà bene, tra l'altro ci saranno anche Teo e Lerikan, e altre persone lì con me, e anche altri fan che hanno preso il viglietto, ragazzi, venite senza timidezza a parlare con me a fine cosa, perché tutti i green passati, tutti con la mascherina, dai, che ci rivediamo, sono qui per le waifu, e anche per la streamer, dai cuori, le waifu, oggi si gioca, oggi e forse questa settimana tutta si gioca, Leo Armus, grazie 18 mesi, un po' di cagarella, va sempre bene per i discorsi, poi sul palco va benissimo, quindi non mi girò, andrò via così, per non restare minimo un sospetto, però si, sto ripetendo quello con uno sesto, sto facendo il render 3D dell'ufficio delle Ame, quindi stiamo decidendo i vari set, e io oggi mi sono messa a fare i render, che non vi spoilero, però è letteralmente come quando mi mettevo a fare i render del mio ufficio, prima di comprare i vari pezzettini, che effettivamente è quello che mi ha più aiutato a vedere l'immagine dell'ufficio più in grande, perché ha voglia di dire, prendo uno scaffale, metto una luce, però a me viene meglio vedere tutto insieme, così se il divano mi fa schifo, lo tolgo, metto magari tre poltrone che ci sta meglio, lo so, prima di andare in un'ichè, dire, ma cosa prendo? questo, facciamo una prova, sì, ma prima voglio vedere, e si fa lì la prova, senza spendere, poi compro, e faccio tutte le cose del colore, quindi ho fatto un po' di render, ho appunto fatto questa mega chiamata con Diarika, ho fatto, Diariku, ho fatto una piccolissima commissione, che però è un po' nascostina per ora, quindi è uno di quei disegni che vedrete un po' piovanti, e niente, o il purple pass, posso? Cos'è il purple pass? No, tu hai scuola, vabbè, ma ci sarà un video, non ti preoccupare, non posso facendo la seconda dose il giorno prima, azze, peccato, le pensavo fossi una donna solo per il mio nick, sì, ma solo la prima volta, poi mi sono corretta, posso chiederti se la facecam è delgato all'autofocus? Sì, sì, all'autofocus, assolutamente, Neon sta molto bene, oggi è stato mega, oggi e ieri è stato mega affettuoso, ci siamo intesi molto bene, secondo me è il mio gatto in questi giorni, quindi piuttosto, mi è salito in braccio e ci è arrestato, credo che sia un ottimo segno, perché di solito non rimane se ce lo metto io, quindi facciamogli fare quello che vuole al gattino, anche stamattina mi ha svegliato presto, ha continuato a rompere le balle, perché io gli ho detto, gli ho dato questa opzione, mi svegli alle 6 per mangiare, ok, mi alzo e ti torno a mangiare, ma se tu ritorni a letto, continui a leccarmi la faccia, a rompermi le balle, perché voglio recuperare quelle due ore di sonno, io ti chiudo in bagno, anzi, ti chiudo, ti do queste tre opzioni, ti chiudo fuori dalla camera, così hai tutta la casa per te, se continui a graffiare per più di 15 minuti sulla porta, e non mi fai dormire, ti chiudo in bagno, perché io devo dormire la mattina, ok, cioè, devi farmi dormire, ti do il cibo, allora che vuoi tu, va bene, già questa cosa ormai, non riesco più a dormire, perché veramente mi rompe troppo le balle per il cibo, però poi non so cosa vuole, perché continua a svegliarmi dopo che gli ho dato da mangiare, quindi lo lascio direttamente in casa, e se continua a graffiarmi sulla porta della camera, lo chiudo in bagno, perché non ce lo faccio più, così il cibo l'ha mangiato, e se deve cagare, caga lì, fine, per due ore se ne deve star lì dentro, quando imparerà che appena graffia va in bagno, allora ricominceremo ad andare d'accordo, non morde più i piedi fortunatamente, quello no, ah, Nipiciu, ti perdi gli annunci, a quando pare mi sono perso un annuncio più o meno importante, un annuncio importante, che non ho detto oggi, perché domani c'è la puntata di Amazon, e vi aspetto lì, è che, e lo dico perché ora è arrivata con Nipiciu, quindi possiamo effettivamente fare gli annunci, Pitchboost, grazie ai sei mesi, Sofiteir, alle sei, che devo mettere su Instagram, tra poco, appena finisco la live, che ho la chiamata poi con l'organizzatore del TED, però poi mi metto a fare questa piccola storia, è che domani le ame sono di nuovo da me, e quindi si sta di nuovo sul divano, sto recuperando un po' tutte le live che non faccio di pomeriggio, le recupero la sera, meglio, così col conteggio delle ore ci siamo, e c'è un ospite speciale, c'è un ospite speciale, oh no, è vero che è stato riscattato il Tiamo, adesso è automatico, cazzi, cazzi a tutti, oh no, grazie del rovitiamo, quella era la frase, quella era la frase, così, perché mi va male, ma che vada anche per tutta la chat, Ciki Belov, automatico, ma con l'audio doppio, io sta cosa ancora non me la spiego, non capisco, non capisco, vabbè non importa, poi, formiche automatiche, sì di colpo, così non devo recuperarli dopo, questo era Dark Celebi, che ci celebra così, e Ciki Belov, conosci l'Accademia di Apogita di Lucca? perché io ho studiato a Milano, quindi in realtà non so niente delle altre università o accademie, ma niente di nulla, ho totalmente perso interesse per qualsiasi istituzione accademica, nel momento in cui ho dato l'ultimo esame e la tesina, fine, arrivederci, non esiste più niente, madonna le batterie oggi spaccano, doppi cazzi, doppi cazzi, sì sì sì, tutti, tutti quanti, a Milano, figa, quindi, ma perché c'è sto rientro? Io non capisco, vediamo un attimo, perché io in realtà metto il cazzi qua, però, tendenzialmente, proprietà d'audio avanzate, solo monitoraggio, disottiva l'audio, però si sente comunque, però se faccio così, così lo sentite? così lo sentite unico, dopo lo yet della testa dice no, anch'io, ora è normale, ok, ok, dovrei aver sistemato, dovrei aver sistemato, faccio un'ultima prova, per vedere se funziona, e lo lascio così, non tocco niente, ora è mono, perfetto, allora, perfetto, ancora prima di sapere qual era la scena, ve lo tolgo prima, metto il cazzi qua, io intanto ho messo un po' di nutella nel caffè, parlavamo degli ospiti, oggi, quindi per oggi basta più lo abitiamo, almeno per una settimana, però con l'audio unico, domani c'è un ospite, è un ospite ovviamente una ama, una donna, volevo, prima di dirvelo, prima di iniziare a giocare, perché è l'unica news che abbiamo, perché poi domani c'è Aiello, domani c'è Aiello da Amazon, ehi, l'ospite è stato rivelato, quindi non è il mio ospite, ma è l'ospite del programma che conduo, quindi Aiello, che ve lo ricorderete assolutamente per Sanremo, domani lo conosciamo un po' meglio, e domani sera, provate a indovinare chi è l'ospite femmina, che ci verrà a trovare fisicamente in casa nostra, quindi, per il comando Furianosico e Profici Genico abbiamo messo, non è un problema già ogni volta, ma se vuoi aggiornarlo ogni volta, tanto l'ospite viene rivelato sempre il venerdì, se vuoi, se ti va, se non è una seccatura, secondo me, sta un po' a te qui, allora, Berti, Aiello quello cosentino, io l'ho conosciuto a Sanremo, cioè non di persona, però so chi è dal momento che ha fatto Sanremo, non green, no no, dai provate a indovinare, provate a indovinare, provate a indovinare, perché siete tutti bellissimi, guardate il caffè, segno il caffè corretto, personaggio preferito di Genshi, next in Q, uno sparaccino d'acqua, l'oretta Berti, no, 10 euro per spoilerame, vende spoiler, è vero, Teo già lo sa, questo è uno spoiler, non è Kuro Lili, non è Ruby Rust, vi do un indizio, è una persona che non è mai stata, da noi, quindi non l'avete mai vista nelle nostre storie, ma perché fisicamente, fino a pochi giorni fa, non è mai stata, non è stata in Italia, quindi nel momento in cui arriva in Italia, viene da noi ospite, questo è un grande spoiler, Aiello è una marca di caffè cosentina, ah, io non lo sapevo, andrà agli, Leiden, Leiden, eh, 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 ce l'avete? No, la VTuber inglese di Eric, penso che lo andrò a trovare, ma un giorno la vorremo ospite nell'ufficio, però, 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 è uno scogliattolo, eh, e mi sa che avete indovinato ragazzi, avete indovinato, bravissimi, domani viene da noi Michelle Obama, no, allora, Yuriko Tiger, domani abbiamo Yuriko Tiger tra le Ame, nel divano, in mezzo a noi, ci saremo io, Aza, Yuriko, Chiara, oppure io, Yuriko, Chiara, Aza, non lo so, adesso decidiamo se metterci in ordine alfabetico sotto quell'insegna neon, è ospita delle Ame domani, ci facciamo un bel talk, magari mettiamo un form con le domande, facciamo una bella ghiacchierata, si cene un po' prima, quindi niente film, anche se la serata film la vorrei rifare, assolutamente perché è stata mega divertente, però, sì, ho indovinato mezz'ora fa, non mi hai cacato, vabbè, ma tu sei moderatore, non vale, non lo so perché, quindi sì, vabbè, il progetto a me, ma invitare Doja Kett in casa, mi sembra esagerato, hai ragione, e smetti la Yuzam, in realtà Yuriko e Michelle Obama, è un casino creare schietta al neon per ogni amaro, beh, lo so, ma ci stiamo lavorando, comunque è fattibilissimo, è fattibilissimo, vabbè, se non è Leiden, allora passo, inizieremo alle 9, di solito alle 9 startola live, barra il pre-live, così abbiamo tempo di sistemarci tutto quanto e mangiare, perché io domani torno da Amazon, e devo poi risistemare tutto il set di là in, e ho anche una luce in più, gentilmente offerta da Teo, quindi abbiamo un'illuminazione figa domani, però, e quindi non abbiamo soltanto l'illuminazione dall'alto, ma ce l'abbiamo frontale, quindi grazie Teo, grazie mille, della tua, della tua disponibilità, molto gentile, molto gentile, e mi ha prestato una luce, però sì, alle 21, I am ready, secondo me ragazzi, sarà una puntata fighissima, ultimamente con le M, dopo, io la serata film, l'ho veramente apprezzata, non vedo la di farlo nell'ufficio, nel divanone, quindi veramente, guardarci i film insieme, è una roba che mi fa sentire così, cioè, non lo so, sviluppiamo del bonding tra di noi, Mastino, grazie, appena regalata una sub a Hillos Geek, grazie mille, me n'è arrivato Hillos Geek, però, però, sì, non lo so, anche guardarci i film insieme, conoscere gli ospiti insieme, diventiamo tutti sempre più amici, io, io sento il bisogno comunque di conoscervi anche un po' meglio, un giorno faccio io le domande a voi, mi date un form di domande, io le riempio, vi chiedo, tipo, con i picciu, ma te che numero di piedi hai? Dimmelo, dimmelo, il divano nei max, è un ottimo divano per stare in compagnia, ci sta un bato di gente? No, no, io queste cose non le faccio, grazie, ehi, non sudate, non sudate, sono sempre io che faccio le risposte, adesso devi dirmi, oh, ta mega, ma perché proprio le undici e mezza? Intervista alla chat content, con i picci, ma che numero di mani hai? Ma quante dita poi? Non sudate sulla mia scrivania, dove va cazza? Torna qui! Leiden, vedi, accettavo di tirare la chiesta, quindi chiedo a Leiden, ma quanto ci metti a fare i miei mini? Soprattutto, non, cos'è quello? Ma esattamente come il, ma bellissimo, ma è la gif che ho fatto a gatto, la Nutella Bella, non so se l'hai fatto apposta, però ho fatto a gatto esattamente la stessa emoticon animata, di quel frame della gif che hai preso, l'ho preso da lì, fugo nel balcone, torna qui, guine, sono la persona più banale e noiosa che potrei mai incontrare in vita, e allora perché sudi? Che cosa hai da nascondere? Guarda che bella! Di Fenrin, Mai Locchi, che ha il Bonk, Hello Hype, Rolling Eggplant, l'UV che va, bellissimo, VUI, VUI, che figlia le sue emoticon, non conoscevo, tra l'altro la sabba costa anche meno, perché è September, la ragazza di Sbeku, ah, ok, non lo sapevo, che aveva anche, bellissima la gif comunque, ti aspettavo sul balcone, torna dentro, dipende, puoi prendermi dai 20 minuti al giorno, fino a un'ora, raccolto un momento di materiale, dai tuoi live, e di Leiden ha risposto alla mia domanda, è stato molto bello, bravo, bravo Leiden, allora, porto il 3940, ciao, e poi c'è un, un, un taccuino con scritto, un botto di roba, quante roba hai scritto lì, penso ci sia la parte, tutta scritta bene negli sticker di Telegram, ho sentito che hai ricevuto altri complimenti per i tuoi sticker, molto bello, io ora ho dovuto cercare che fosse Yuriko, perdono Robi, non ti preoccupare, comunque è meglio, perché comunque domani avrei la possibilità di conoscerla, quindi sì, sono la persona più plane del mondo, Yoshikage Kira, ragazzi, sono alla quinta stagione, ossia cinquantesima puntata, di Full Metal Alchemist, per farvi capire più o meno a che punto sono arrivata, spoiler senza contesto, snap fuoco, e c'è tutta una scena dove, fatti sotto, io sono invincibile, fuoco negli occhi, porca vacca non sono così invincibile, coso che indefinito scappa, coso che snappa il fuoco, minchia in berserk, in berserk, nel frattempo, programma radio, tutta la città, fantastico, bravi, complimenti, si, abbasso il sistema, si, è bello, colpo di stato, e io durante tutta la puntata ero tipo, se, minchia, vincono i buoni, quindi let's go, prendete questo, falsa informazione, prendi questo, brutta stronzo, stronza, piena di cose dentro di te, che ti bruciano gli occhi, se, bellissimo, oh mamma mia, poi, poi c'è questa cosa, no, senza farmi, non so se posso fare spoiler, posso fare spoiler di Fullmetal Alchemist Brotherhood, sì, posso farlo, me lo sono divorato, perché è bellissimo, vabbè, facciamo spoiler, no, ok, no, 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 lo dico, non lo dico, non lo dico, questo contesto è chi non lo sa, allora, no, non faccio spoiler, conosco animali che non hanno visto, allora, sempre sulla falsa riga di quelli che non ha fatto spoiler, questa persona, oh no, i miei occhi bruciano, no, che secondo me alla cinquantesima puntata è un po', non puoi neanche capire chi è, tra l'altro una quantità di personaggi ben inseriti, man mano c'è, sempre senza spoiler, una bionda che prende a calci tutti, che io sono tipo, migliore personaggio nella storia, cioè sono tipo, ho scritto Yusam l'altro giorno e fa, vedi roba, faccio boh, Yusam, a nord tutti col pisello durissimo, io questo posso dire, sempre senza, è sempre un spoiler senza contesto questo, secondo me, è un po' come dire, non lo so, qualcosa di Game of Thrones, no, che sono tutti al nord, roba del genere, quindi senza fare spoiler, io ho reso tanti tutti, ma veramente sono, noi siamo, minchia, lo siete veramente, non è un parla parla, comunque tantissimi personaggi inseriti benissimo, che continuano a ritornare, quindi non è che ti presentano, parte, varie eccezioni, non c'è mai una puntata verticale, di gente che va alle terme, per dire, ci sono i cazzi serissimi dalla seconda puntata, e quelli sono, c'è un personaggio rilevante, ci sono tutti che si fanno i viaggi, comunque tornano, comunque che cosa ha fatto, che cosa ha vissuto, qual è il suo backstory, io penso che al momento ho il backstory, di quasi tutti i personaggi che sto vedendo, a parte qualche ufficiale, minore, nel senso che non ha proprio spazio nella trama, ma si è visto un sacco di, con i che scrivi, la scena più bella comunque, sempre spoiler senza contesto, è sempre il signorotto che ho detto, ahia mi bruciano gli occhi, che a un certo punto, no, non è più lui, e dice, ah ah, merda ho fregato, e invece no, no, perché il tizio che snappa fuoco, non ha più pazienza, e quindi si è rotto un po' le palle, e tu dici, oh no, lo, ok, ok let's go, quello che diciamo a king, puoi dire gambare, gambare senpai, ma che sto traendo di tiktok, cosa no, che mi chiamo, ops vivian, hai presente quel personaggio, bene, segnatelo che ti servirà, è qual, quei tutti, tutti quanti, non ho capito nulla, è bravo a non spoilerare, vabbè, vi ho detto dei personaggi, uno è abbastanza ben inserito, nel senso, se ti dico che snappa il fuoco, ti vedi un po' di puntate, capisci chi è, l'altro arriva talmente tanto dopo, che già sti piccoli dettagli, che ti sto dicendo, non ti ricorderai mai chi è, quindi sì, non ha più pazienza, è la prima volta, che vedo la pupilla, la pupilla, che da normale, tipo piccolissima, ecco, questo piccolo spoiler, che ho notato, è che l'espressione di questo personaggio, ha sempre una pupilla, medio grande, come tutti i personaggi, e durante sta scena, diventa piccolissima, che lì, merda, sono proprio cazzissime, così arrabbiato, quella pupilla piccola, lo stiamo facendo vedere anche a Giulio, ma non è difficile andare avanti, siamo arrivati al 12, puoi farle venire voglia, e ma perché io li guardo solo dopo cena, ieri in particolare, ne ho viste 8 di fila, credo, 7-8 di fila, non ti potevi smettere di guardare, ok, era un momento della serie, in cui era, no, avvenimento importante, la notte prima, no, vagamente, posso intendervela così, quindi, arrivi ormai a succo della trama, dici, domani c'è la festa di compleanno di Paolo, ok, scusami, il 30 marzo c'è la festa di compleanno di Paolo, da un certo punto, capisci che il compleanno di Paolo è importantissimo, ed è il 30 marzo, il 29 marzo, ti dura 8 puntate, perché è la notte prima del compleanno di Paolo, siete tutti lì a preparare i regali, e tu non puoi fermarti alla puntata 5, se la notte prima del compleanno di Paolo, durò 8 puntate, te le guardi tutte, e quindi, è stata una bella notte prima del compleanno di Paolo, eh, mamma mia, sì, il Roberta guarda il full metrase, quindi, bella la notte prima, adesso, sono al punto in cui è il compleanno di Paolo, e a un certo punto, penso che, insomma, arriverà la torta, ecco, so small anger, beh, non puoi neanche dimenticare il 3 ottobre, è vero, don't forget, non puoi dimenticare, non puoi dimenticare, il bro moment fra i due personaggi muscolosi, mamma mia, pilla mi like da così a così, così, non so di cosa stai parlando, ma Paolo sembra importante, Paolo è sempre importante in questo canale, sì, 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 oh no, anyway, don't forget it, we eat spaghetti, comunque, niente, sono arrivata a quella, le notti, notte prima degli esami, e poi è il giorno dell'esame, e siccome è il giorno dell'esame, non è che ti dicono, ok, tutto in una puntata, no, penso che vadano un'ora alla volta, siamo ancora alla fase iniziale, dove stiamo preparando le interrogazioni, e madonna santa, mamma mia, ieri mi son fermata, a questa scena, che in realtà no, era oggi a pranzo, perché non volevo guardarne di più, ma vi giuro, che con la puntata di oggi, di Full Metal Alchemist, pa 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 pa, occhi piccolissimi, io ero in piedi sul divano, ero veramente piena di, oh finalmente, sti pezzi di merda, le prendono, e stendete il discorso a pezzi di merda, più largo, perché hanno racchiuso in una puntata, varie cose che ti dicono, oh finalmente sei tu, che la prendi in culo, perché comunque i personaggi principali, le prendono, ci sono tanti avvenimenti negativi, ma in questa puntata in particolare, ci sono due fatti, molto positivi, che bello, ah manca ancora mezza puntata, quindi vediamo, robia fine puntata, non parliamo di esami per favore, che vado a fare roba, no Price, studia bene allora, Yusam ti aiuto se serve, fucking capi profist, e con Giulia, con Giulia andrebbe, trovata la sera degli anime, però entrambi abbiamo delle, non ci siamo mai trovati una sera, per fare una chiacchierata fra di noi, o a guardarci un film, quindi penso proprio sia una questione, di orario impegni, mamma mia se ne prendono, sta pieno, Gom Johnny, Gom Johnny bravissimo, Gom Johnny bravissimo, non ci posso credere, che l'hai trovata, guardate non è neanche, non è neanche, allora, Gom Johnny non vi è neanche, spoilerato il personaggio, perché nel nome delle motte, non c'è il nome del personaggio, ma è incredibile Gom Johnny, ma come hai fatto, non si chiama né Krista né Derp, quel personaggio, ma guardalo lì, bravissimo, ti tol il VIP, ma è proprio quell'emote, ma come cazzo hai fatto, ma come hai fatto, questo è con Giulia, si è difficile guardare gli anime, quando è lei gli anime, vabbè, ma questo non è doppiato, quindi magari, non è un problema, lolo ho capito, bravissimo, Gom Johnny, ti merito un applauso, tutto per te, è già VIP, lo tolgo, e rimetto il VIP, lo faccio saltare, comunque, se volete, bravissimo, tiro il VIP, ha già il VIP, lo chiudo, lo faccio saltare, allora, sì, se volete, fuoco, se volete iniziamo a giocare Genshin, oggi ho intenzione di farmi tutta la, tutta la live, con le missioni principali, boh, ragazzi, semplicemente, andrò in giro a fare la missione principale, mi viene l'ansia, che c'è molto da esplorare, quindi, non, oggi, cioè, a me piace esplorare in compagnia, sinceramente, perché è una parte un po', chill, quindi mi piace farla con altre persone, però in compagnia non puoi fare le missioni principali, quindi farò le missioni principali oggi, non preoccupandomi troppo della, dell'esplorazione, quindi andrò un po' in giro, ogni tanto se vedo una cesta, magari vado a prenderla, però non vado a fare soprattutto le missioni, per esplorazione magari la faccio offline, vado a prendermi le chest, tutti i cosini elettro, le robe in più, vado a livellare, ah ci sto con le moti con di cuni, mamma mia, hai visto che virus le moti con di cuni, li hanno tutti, grazie dei 18 mesi, acito bentornata, hello, è meglio finire la trama, prima esatto, già pullati i nuovi pg, già pullati tutti e due, la tipa corvo e la, la buba sword, la trama spacca e sblocca cose, quindi oggi niente le riculo, magari facciamo una giornata di 7 ore di, di esplorazioni, chi lo sa, però oggi trama, così almeno, tutti mi dicono, rapido, è incredibile, sono tipo, ok, non la so, guarda, e già mi stavo beccando degli spoiler su, perché ho un po' di Genshin Impact su TikTok, quindi ero, c'è un occhio viola, via, via, facciamo capire all'algoritmo che sono una depressa, con la deficit d'attenzione, tendente al bisessuale, che apprezza i, vediamo, apprezza i remix di cupcake, probabilmente, vediamo cosa dicono i miei, i miei feed, aspetta, 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 vediamo il primo, vi faccio vedere un TikTok che ho messo like, prima di, andare avanti, vediamo se ne ho trovati di divertenti, uno che mi ha fatto proprio, ridere, ah, boh, sto tizio è mega ignorante, non so, è un tizio, quando sono ignorante con la merda, ho preso la terza media con i punti del latte, ma il parcheggiatore è abusivo, mi ha detto, ciao, dottor, è così random questa cosa, non so, e c'è sto tizio sotto che balla, ma che è questo TikTok, mi fa mega ridere, oppure, qual era l'altro, aspetta, aspetta, da qual è quello che mi ha fatto proprio, si dice snorfare dal naso, quando, quando ridi forte, vediamo un attimo, dov'è, dov'è, questo, ah no, aspetta, questo mi sa che continua un bel bestemmione, quindi forse è meglio se non lo, ah, nooo, basta, madonna che ignoranza, dio mio, vabbè, poi ci sono altri trend, aspetta, aspetta, c'è un trend, che è praticamente, vi faccio vedere prima che cosa fa il trend, credo, te la tiri un po', fai sto discorso mega cringe, e poi dici, ah, you've changed, e sei un figo, no? Un po', ok, è così, questo è il trend, e c'è sto tizio, come non hai capito? Come non hai capito? Buon raga, a me le cose con il cinema mi fanno sempre ridere, non avete capito il TikTok di prima? Era un pezzo di, allora, questo TikTok, non, è un po' brutto spiegarvelo, però, chiaramente, purtroppo dice, quando, becco le persone a fissarmi, perché? Perché mancano dei capelli dove c'è la nuca, quindi, quando si gira, c'è un tizio che ha una roba in mano con la colla, e fa finta di, cioè, non, 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 ho scoperto di recenti video, il tizio di colore, che guarda, gli americani fare cose stupidi, e poi li fa in modo corretto, ah, tipo il TikTok, quello che è diventato il tiktoker più famoso del mondo, tipo, è italiano, e noi tipo, mega proud, come se fosse merito dell'Italia, no? C'è sta roba di, inizia con la K, il nome, e c'è questa cosa molto divertente, che l'Italia si prende tutti i meriti, è nostro il tiktoker più famoso del mondo, Sì, ma ha fatto tutto lui, non è che te c'entri qualcosa? Allora, questo è solo per chi ha visto il film con noi, e il venerdì che c'è stato il, il remake di Cinderella con tutte le cover, e c'era Redonation, che era veramente terribile come cover, e per chi ha visto Camp Rock, e Salterna di Camp Rock. Questa è Mamma mia, Camp Rock, che quando fanno quel pezzo, Camp Rock 2, quando fanno quel pezzo, qua devi essere, da un po' su tiktok, per sapere alcune di queste cose, purtroppo i miei sono un po' specifici, ultimamente, eeeh, ahahahah, hai messo, come mamma mia fatto, e niente, poi negli anni sono cresciuta, e mi hanno sempre detto, che sono bellissima, no raga no, basta, mi fermo, mi fermo, che ignoranza, i miei tiktok, un giorno li devo portare tutti, in live, era bello il film, è un po' trash, me lo guarderei con gli amici, c'erano molte cose, che mi hanno fatto dire, babbia mia che palle, tipo la cover di Perfect, di Ed Sheeran, che non, ce la faccio più a sentire, è proprio dormito sul divano, mentre c'era quella scena, ma il resto, caro uscita con gli amici, dai, eeeh, comunque, avrò finta di aver capito qualcosa, anche se in realtà, non ci ho capito una mazza, poi, poi ti spiego, serve un'altra lezione di tiktok qui, comunque iniziamo, insieme a Yukara Genshin, Dai che c'è il pad in mano, sono prontissima, allora, direi di fare qua, game, la chat, me la tengo lì, io sono qui, Gentleman Diamond, grazie mille della tua, resab, 23 mesi, eeeh, Nero Volhanel, non so se ti ho letto, mi sa di sì, in caso ti rileggo, due mesi, solo per essere sicuro, grazie della, della secondo mese, ok, Carrie, Lan, invochiamo, me l'hanno consigliato, sabato 6, perché trash, esatto, beh, hanno fatto bene, un attimo di aggiungere, un po' di, così, ok, ui, fortissimo, allora, prendiamoci tutte le cose, che ci spettano, e che non ci meritiamo, eeeh, intanto togliamoci, tutte le, le notifiche, Robby, ma fai anche tiktok? No, però sono intensa fruitrice, davvero intensa, davvero, davvero, tutte le mie pause bagno, sono così, diciamo, qui, al momento, non accetto nessuna richiesta di amicizia, perché vorrei tenerle, nel momento delle ame, quelle, le richieste di amicizia, un po' più personali, vorrei che fossero, dei, dei premietti, anche, però, ve lo spiegherò, un po' più avanti, infatti, devo un attimino, oh, mail, mail, tammi, eh, niente, c'è del cibo, vabbè, del cibo e dell'acqua, comunque fa, fa sempre bene, mentre, oh, scusami, scusami, Catherine, scusami, scusami, hai ragione, mentre qua, ho delle robe da prendere, ma si deve pescare, poi vado a pescare, mamma mia, così va a pescare, come sono i micro, troppe robe devo fare, allora, così, poi, così, poi, così, ok, dopodiché, boh, basta, finito, che altro devo fare, ah no, c'è il, il game pass, il battle pass, scusate, c'è sempre questa piccola, spesa, inizio gioco, di, bravo, complimenti, per assolutamente nulla, uh, bello questo cosino lì a fianco, guarda quante primo gemme che ci sono qua da prendere, un botto, ok, eh, archon quest, un botto di wishes, andiamo a prenderci lì, eh, perché c'è un conto ascomativo lì, game pass, che è l'xbox, no, ho sbagliato, scusatemi, infatti, dovrebbe essere qui, unknown, eh, ah no, è lì, è lì, perfetto, non, non ci sono ancora arrivata, però, perché devo farmi tutta la camminata, non ho preso nessun teleport, e quindi, tocca farsela a piedi, ragazzi, andiamo, che cosa abbiamo, fortissima tipa del bancone, si è preso uno spadone rovente in faccia, non ha battuto il ciglio, un po' se, un po' se è tolta, dai, le ricompense generate a browser, le riscuoti, no, dovrei in effetti, allora, questo sarà semplicemente un intenso viaggio verso quel punto lì specifico, che vedo da qua, però non ho abbastanza stamina, per arrivarci, quindi farò, un po' alla volta, diciamo, non cadere, ti prego, e, niente, intanto mi guardo un po' innazuma dall'alto, che cosa abbiamo capito finora della missione, che, per qualche motivo, che non mi spiego, un monoelectrogram, non ho ancora capito, mi si fa sta roba, zero proprio, per qualche motivo, legato per ora al commercio, le varie zone dell'isola sono precluse, ci sono tante gang, è un enorme West High Story, questo, questo bel posticino, però, noi, ci siamo, procurati, un, un ingaggio molto comodo, ossia, dobbiamo andare a consegnare, 709 lettere, che, ragazzi, non ci posso chiedere, che non è un riferimento a Caparezza, e, più una, che è la figlia del capo, dei commercianti, che è praticamente l'isola, dove approdiamo la prima volta, che ha detto, c'è il mio tipo, eh, però è del clan rivale, quindi, se tu gli potessi portare la lettera, praticamente, posso farti uscire, eh, la bloccano, l'accompagnano, e dicono, principessa, lei non può andare, no, no, io faccio il cazzo che voglio, innanzitutto, primo, secondo, sì, 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 lei, lei, lei può andare, è una brava guagliona, può fare quello che vuole, andate tranquilli, forse non mi fermerei qua, vediamo se posso, al momento mi trovo qua, se io facessi qui, ma qua è dove posso pescare, forse, mi pare, sì, è il posto dove si pesca, perché con la stamina, fino a qua non ci arrivo, quindi magari scendo, mi faccio questa stradina, che comunque non mi sembra tantissima, non mi sembra di poterci arrivare, con la mia stamina, o forse sì, non lo so, non credo, dai, provo, guarda il coso di elettro lì, che mi chiama, ah, aspetta, però c'è una piccola isoletta, ah no, ci arrivo comunque, dai, dai, non dovrei avere troppi problemi ad arrivarci, perfetto, andiamo un po' più giù, così, se cado, cado, non è il posto dove si pesca, ok, perché avevo un simbolino strano, ok, ok, perfetto, con il soldato che è innamorato, è rifiutatissimo, sì, 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 ok, ok, vai, vai pure, dove ti porta il cuore, vado dove cazzo voglio infatti, il soldato, ok, va bene, oh, oh, incredibile, dove è finito? La pesca e le zone non sono segnate, siamo di un'altra cosa, ma ci arriveremo, ma ci arriveremo, oh, c'è una missione lì che, così, al volo, accetto, giusto per avere qualcosa in più da fare dopo, sei tu, ti sei la missione, no, non mi frega niente, allora, missione, ma sto posto, quanta di situation, due autori, che fai conoscermi, scusami, publishing, ti servono i due scrittori, non posso invitarli, sarebbe brutto non invitarli, visto che comunque anche loro, quindi, se qualcuno potesse mandargli un regalo, le cortesie di base, per essere, ci penso io, ci penso io, non ti preoccupare, e si schippa, sì, va bene, ci penso io, gli scrittori, ho cose più importanti, che chiederti chi è Zenio, non è che mi interessasse molto, ho detto che lo faccio, sono una macchina, tu mi dici di fare una roba, io, chiedo dritto, faccio, non mi faccio eccessive domande, ma se cosa mi piace molto, il teleport, il teleport mi interessa assai, ma guarda che bel posto, guarda che pace, e che tranquillità qui, devi attaccarlo con l'elettro, eh, vorrei avere, io avrei l'ISA di elettro, in realtà, perché è l'unica che mi piace tanto, kit e test da leggere, Zongli non è male, però, ma, tipo, mi terrei tartaglia, in realtà, per l'elettro, la lascio dopo con l'esplorazione, perché appunto ad avere, bella potenziata quella dell'elettro, e vorrei usare lei, nel team, fissa, e poi le vuoi giocare, almeno allo stesso tempo, non lo voglio di farlo, allora, il teleport l'ho preso, tutto posto, sbloccato, e qua è tipo, un'altra città, piena di souvenir, con le quest, dove puoi, prendere le daily, molto carino, molto molto bello, e a 59 metri, siamo già arrivati, sul punto della missione, la missione che, mentre rubo, oh scusa, non ho rubato niente, ma come divinity, goodbye, cosa dice la missione, iniziamo a informarci, sulla missione, prima che arriviamo lì, come degli imbecilli, e non sappiamo niente, almeno, mostriamo un minimo, di interesse, Allora, two wishes, senti in fondo, sono a main island, raccomandare for the first time, you carry revision letter, documento, non so, non do it, might happen next, ok, la nostra prima lettera, perfetto, c'è del cibo, va bene, va bene, posso accettare questa cosa, questa arriva, c'è la frutta e verdura, davanti al proprietario, c'ho fame, una raid and show, l'ho presa, ce l'ho, ce l'ho la waitissima, è lei, salve, a seconda lettera, il posto è questo, madonna santa, scusate, noi non serviamo la plebe, ve ne andate, intanto ti calmi che ho viaggiato, dai tranquilla, sono tutte cose, evitari, sì, sì, oh mio dio, se nebrate dei viaggiatori, che vi siete intrufolati qui, ma che è il Giappone, che non fa entrare i non laureati, che è? questa è la nostra lettera d'invito, non rompere le palle, già, il mitico Mr. Toma, già, non giudicare un libro da copertina, adesso non ci voglio più entrare, guarda un po', allora, personaggio JPG, intanto ti calmi, è un po' giapponese, ho capito, ma lui è Mostad, è tipo, raga, benvenuti, c'è Ember, che è fantastica, e dice, questa è casa mia, c'è Zong Li, che ci fa fare i giri, non ci paga proprio niente, perché non ha i soldi, anche se lì è l'amore in persona, e poi c'è qua, e non potete entrare, intanto, dai tranquillo, che quest'isola, l'avete colonizzata, comunque non è che l'avete costruita voi, oppure sì, non lo so, no fidati, tu vuoi entrare, vuoi entrare? Enter comoreste house, vuoi entrare a prendere un tè? Entri a prendere un tè, no? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Andiamo, andiamo un po', cosa mi sto perdendo, dov'è Toma? Il best boy all'inizio del gioco, Hai visto che è Dora, hai visto che l'avete scontato, per la incontrazione, ci sono un po' di noi, chi ha scontato l'avete scontato? Hai visto che l'avete scontato, hai visto che l'avete scontato, hai visto che l'avete scontato, io mi sto perdendo, è che l'avete scontato, è quello che si parla, chi si parla? Ma è Toma? È un doga? Non vediamo nessun... Però c'è un dottore con un serpente sul collo Ah, ok, ok, ok Carino Toma, sei proprio un coglione Sei a tanto così da beccarti un brutto nickname E' vero, ci hai aspettato una settimana almeno Allora! Credo che sia anche un personaggio poi Ok Ah sì che c'era il coraggio, ma hai sentito che prudette Che faccio fuori di qua Non pensare che Paimon's gonna forgive you Just because you're getting all serious now Non pensare che ti perdoniamo Ok Come siamo andati nel test, diciamo Sì, e infatti non le sto capendo queste regole Ok, determinazione Dici l'amico di Kazuha, quello buttato giù dalla Bubas World Eh sì Vedete, shiraga, ti imagimi Ok Certo Dove hai comprato quel cane? Ok Andiamo, accompagniamoci a questa stacqua Va bene La stata però sta ancora venendo costruita Oh che bella, è lì, la vedo Ma è bellissima Si va a pullare lì dopo Il gatto non è impressionato Il cane almeno avrebbe abbagliato Questo switch era in giappo seriamente consigliato Ma mi piace un bot in inglese Lo seguo benissimo Capisco che sono belle le voci Però È come Danganronpa Anche Danganronpa potevo benissimo giocarlo in giapponese Con i sottotitoli Però in inglese sentirlo Ah, era così bello Dai le porte Allora State ancora costruendo questa Molto carina però Belle ali Da un cuore nero Io odio a Toma È mio nemico Ma Toma sembra molto simpatico in realtà È un tartaglia Con una skin diversa Cioè ha la stessa Attitudine Non troppo seria Anche Kaeya Diluc invece è un Sin qui invece è il legge Comunque il fatto che non ci sono mai stati più momenti Lisa e Jin Mi ne dispiace un botto perché loro due erano le lesbiche del gioco Le gnocche lesbiche del gioco Che non hanno mai più interagito Wow Ok Le mettete tutte in un unico posto Siete sicuri raga? Abbiamo sentito parlare di questa cosa Perché Che è The Shogun Issue Division Why did The Shogun Issue Division Non to decree? Before I try to explain I should perhaps remind you first That Mondstadt is the city of freedom Esatto Il lion è la city dei contratti È vero, è vero As for Inazuma Qui Dell'eternità Oh The Raiden Shogun è la nazione del Ma è il nome della tipa È del nome di una nazione Cioè la tipa ha il nome di una nazione? The Eternity in question Is her endless and unchanging will To rule over Inazuma L'eternità è la sua Il nome o il titolo? No no Il titolo della tipa che ho pullato Cioè il suo nome in gioco È il titolo È il nome della nazione Che si chiama Che Insomma Il suo motto è l'eternità Perché La sua Inesauribile voglia Di governare Su Inazuma Oppure Ah la nazione Inazuma Raiden Shogun è il nome e titolo di chi? La nazione è Shonugato È il capo È lo Shogun È il titolo maggiore Fra i samurai Raiden Shogun è il titolo Che Inazuma ha dato la sua dea Ah Ok 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 L'eternità è in questione Che lei vuole governare Su Inazuma L'eternità Intesa come lei Che vuole governare Su Inazuma Scusatemi Ho fatto un po' di confusione Perché tanto inglese E tanti nomi diversi Però grazie mille Se mi correggete Mi aiutate a capire Mi ha dato una mano enorme La commissione Per la relazione She lies on the tree commission Per Cioè lei Si fa finalmente La tree commissione La tree force Per regolare Gli affari della nazione E il sakoku Decreto Per limitare Il limite Quindi è lei Quindi è lei Che limita i movimenti Vuole tenerla in stasi Vuole lasciarla praticamente intatta Così passa il tempo Ma resta così Ferma In Così come è sempre stata E così sarà per i prossimi anni È lei che lo decide Shogun Shogun è vero Sembra che ogni Parafrasi di Paimon Beh Ma il cazzo che le pare Che è un regno che non cambia mai Questa è la mia conoscenza limitata Per Per la ragione dietro Le recenti Il decreto Della caccia alle visioni Però lui dice Shogun Quello lo dico anch'io La visione cambia le persone E la sua eternità Non la Non la Il suo motto Non va d'accordo Con queste visioni Per quello È un conflitto Perché le visioni Cambiano le persone Lei non vuole che niente cambi Perché l'inglese non sta a parlare Capito? Shogun Qualsiasi sia il caso I fatti sono che La Raiden Shogun Ha praticamente Sparso La commissione Dei Tenryou Per Tutta la nazione Per trovare queste visioni E Incastrarli una per una In questo stato E questo è il simbolo Dell'eternità Ottima spiegazione Ok chiaro Quindi Però Non penserei Tipo che È un po' troppo Per se stessa Cioè non mi sembra Che questa Dea Si preoccupi di voi Si preoccupa Di cosa vuole Lei Capito però Sono i fatti Tipo Solo voi potreste Permettervi di giudicare La dea Si Ah e Allora De d'accordo Scusa eh Miss Kamisato È stata incaricata Di Cioè non è che sono D'accordo Da quando sono annunciati Però è così Punto Era Miss Kamisato Scusatemi Oh no Cos'è stato quel suono Che mistero Di adaltare Potuto sentire Le aspirazioni Delle persone Aspirazioni Ahiaga La tipa Con la connellina Aspetta Che senso Quella che ho pullato Questo confermerebbe Le vicerie Quando le ambizioni Di una persona Raggiungono Una certa forza Il Gli dei Lo guardano Con favore E' da lì Che viene la visione La visione Rappresenta L'ambizione Delle persone Quindi Il travel Che può fare Tante cose Con tante visioni È la più ambiziosa Se quello che dice È vero Queste ambizioni Sono più forti Di quelle che immagino Quindi la visione Simbolizza l'ambizione Non il potere Ok Tanto Aspiration Di tutti Aiaca la tipa Con la connellina Allora Se conosco lei È per Oh Scusatemi È perché Posso sfogliare Questo Questo Coso Ma io non l'ho mai incontrata Lei Non l'ho mai incontrata Quindi Lei mi ha nominato Una persona Che io non ho ancora incontrato A meno che Io Non abbia ancora Fatto Quella missione Perché Tronologicamente Posso Non fare questa Prima di fare un'altra Perché il gioco Mi ha già spoilerato Chi è Però A meno che non sia qui The spirits Nomers Cioè Qua ci sono delle missioni Story quest E poi c'è questo Eh capito Quindi lui mi dice nomi Che io non conosco In realtà Che vabbè Tranquilli Ho visto nel trailer Nel senso Non Sono già stati spoilerati Molto prima Che lo dicesse lui Strano così Quindi Ayakami E chi è E chi è Questo nome giapponese In mezzo a mille altri Nomi giapponesi Ah boh Che bella l'acqua Ciao Che bella l'acqua Cioè vi Hai parlato Ci ho parlato Quando Ciao DG Andrea Sto facendo Un quest Sì Dove devo andare ma Ah devo tornare lì Eeeh Oh ci arrivo da qua Allora Camisato E sta te Andiamo da Camisato A scoprire chi è Camisato E sta te Va benissimo Nome molto carino Per niente Storpiato Da me stessa C'è una casetta Eeeh Cos'è Devo prenderli Ah no È proprio qualcosa Per muoversi Mi sa Io crederò All'Erican Quindi sì Casetta Mansione da ricconi Che mamma mia Sorseggi è stata In questo momento Guarda che cazzo Di villa Ma io devo entrare Dalla porta O ci volo da sopra Non posso Tu fa di avere Un Companion Sinceramente Così così Lo tolgo Grazie dei 20 mesi Buonasera Oh no Sei un altro nome Giapponese Da imparare Tizio Eeeh Sì Miss Camisato Voglio assolutamente Parlare Con Miss Camisato Proprio lei Mistero Sarà mai Dove sei Sei Ragazzi ma Meno soldi Oh le missioni di Nazuma Per le ali di Nazuma Hello Ciao Ho sbloccato Ho sbloccato le ali di Monsta Solo quelle Non quelle di Lioe Oppure solo quelle di Lioe Hai il simbolino che serve Ok Guardi Feliz Non ti disturbo Se non hai delle ali da darmi Non ti disturberò Oltre Per adesso Buonasera Io entro Ciao Se le metti a 20 Sono top Ok Quindi i grandi capi di Nazuma vivono Eeeh Eeeh E don't winery Eeeh Carina The Jade Chamber Madonna Wow Siamo c'è un ride di Diarico Oh mio dio Oh ho 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 So it's time for me to speak a bit of English Usain Hi Ciao Diarico Grazie mille del ride Grazie mille Oh mio dio Benvenuti Welcome Do you prefer to hear some English Or some Italian English Pogu Ragazzi Per la mia Per la fanbase Che era già qui Eeeh Sicuramente Avete rivisto Diarica Quindi è lei E' bellissima Appena finito il suo streaming Andatela a seguire Oh mio dio Che bello And for those who Joined the The Raid Hello guys Welcome to my streaming Nice to meet you Grazias Nope Nope I'm Italian I'm Italian No hablo espanol But Hi Thank you very much For joining the raid I'm Chichibe Ehm You may wonder How me and Iarico Know each other Well it's a fun story But one day One day We will talk about it No it's not true We met Eight years ago And we worked together On a Pokemon Video games Fan made project And then Our life splits And she lives in Reading London I live in Italy And then A couple of days ago We On virtual meet again In Waze And we had A five hour call And now We are so So glad to Have found each other So Yay And thank you so much For the raid Guys You are so many So so many Thank you so much For the raid I was playing Some games In impact So maybe Some of you May know the game Some of you Maybe not So it's kind of Specific streaming But I do art too Sometimes I'm just so Full of commission Right now So I don't feel I don't really feel Like I want to draw In those specific days But I have a website If you want to check My portfolio I don't take commissions Right now Because I had Other jobs To do But Feel free to join us I can speak A bit of english So You italians Have mind And you can just Get into each other Other brains Genshin 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 Never heard of Genshin impact By game of the year 2012 No Okay You're right Maybe Maybe outside of Italy It's more famous But It's Sometimes It's hard to find Some real Genshin impact fans Because The story goes Way more fast And you had to Catch up to All the events And the main story And there's Too many characters And every day There's new Stuff to do And you're just like Do I have to run Do I have to play Every single day So you're just like Okay Maybe I'm a Genshin impact fan Maybe not And today I decided to To stream A bit I'm lucky to be Brazilian I'm able to Understand some Italian Yay Oh yeah guys And maybe Maybe as you can See Now you are Way more English numbers Because here Most of my fanbase Is basically Italian So I need to Speak in Italian But But As you can hear I can speak Some English With a really Nice accent So if you want To ask me Some questions So maybe Join me When I do Some art It will be A pleasure Italian Only Now chat Or else No raga Devo ripassare Inglese Aiuto Semplei Marcia Nell'impero Inglese Mi adeguo Hi Se volete If you want I will speak Both Se volete I had two Different emotes For our English Speakers And Italian Speakers And it's The Italian Hand So if you want To speak Italian Or Basically Just Hey I'm Part of the Italian Team Just put This emotes And then You can put A mini English flag On it So you can Have both You're welcome Secondo me Vai benissimo In hang Stavo dicendo A diarica Appunto Che La Domenica È stata mega Produttiva Perché ho finito Le emoti Con che suda E l'ho Tipo Uploadata Mentre c'era lei Però Però Sì Sono Vedi Il mio Inglese Pupà È un po' Un po' Arrugine È molto basic In realtà Mi piace Flexare il fatto Che parlo Velocemente Ma se ci fai Davvero caso Uso sempre La stessa Cinquantina Di parole Che sembrano Sono fighissime Tutti quanti Sieme Però Sì In two english Humor Non ti molla mai That emot Was made For Dian Ngl What What emot I saw Some emot And then Oh Dian Just made me During our chat During our call For our call On On discord She Made me A Little chibi It was like It was something That we used to do Eight years ago Because As I said We used to Work on Funmate Pokemon Project And It was Way way more Before Twitch was Even a thing Eight years ago Was just chatting TV and In Italy Never heard about that We used to Call each other On hangouts And do these Big teams Of Working people And with the Split screen So during our chat We just like To Drawing Sometimes And She likes To do Some chibi Of ourselves Even Eight years ago So it's like Oh my god And she Started drawing A little chibi This Sunday And after Just when How can I say That After 30 minutes Of sketching She started To put The color Of my hair So like Brown And then Pink Maybe orange Maybe blonde I have to Return to The parrucchiere And I was like That's me And she was like Già Robè Dai I'm from Filipina Nice to meet you Nice to meet you Hi guys I would like To speak more English Someday Someday Not sometimes Because right now I have to stay In my Italian Fanbase For a project That I've Already Set up But in the future Who 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 knows Who knows In the future What 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 the future Can bring to us It's me Già Robè Esattamente Esattamente Così Che bello Poi c'è L'inglese Che in inglese Non capisco niente You mean this Chibi Bravissimo Lerican Moderato Ri Moderatori Grazie mille Comunque Che figo Sono mega emozionata I just smile Since I can understand What you speak Sembrano più di 50 Perché parli troppo veloce Robi Quindi nel tempo Che una persona Ormai ci impegna A dire 50 Dovete almeno 320 L'inglese ha 70 parole Totale Quindi 50 Ma veramente Veramente l'inglese Ha 70 parole in totale Ci credo che è la lingua Più facile da imparare Non l'ho mai saputa Quest'informazione Come andiamo Lo streaming Fra un po' Fra un po' Ricominciamo Ma quel Pepeberta Oh You mean This Pepeberta Wait Wait Where is it This Pepeberta That I have A spill Oh wait Wait Need to show something No quale Which one Ah quello che applaud Yes I can do frame by frame animation Take a look Io ultimamente mi sono accorto Che ho messo di bestia in italiano Quindi penso a qualsiasi cosa in inglese I need to show something Mi devo mostrare una roba Datemi solo un secondino Mi prendo una cosa L'applaudi best Volevo solo mostrare che sono finalmente entrata Nella cerchia dei creatori di spille Come gli small business E quindi ho Forse tu non lo sai però Ho una spilla del Pepe Mott Ed è una roba di cui vado tipo Mega fiera Col mio Welcome to the chat room Se intendi questo Pepe Berta È talmente iconico Che ne ho fatto una spilla Se invece intendi l'altro È molto carino Un bel fmf Dammi Ne vuoi una Minchia Te ne regalo tre Ho questa Ho quella No in realtà ne ho fatte tre Ma quella dei moderatori Purtroppo è andata esaurita Te ne do due Ne voglio cento Grazie Se vuoi Se sei interessata Al mercato delle spille Ti passo i miei contatti Ti passo la mail Ciao Felix Te voglio sette mila Give this girl A Pepe Allora Joe Te Ce l'hai in regalo Ok You deserve more than I have just one gift So just wait for me I will travel To 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 London To United States Sì vabbè No non To Sì vabbè Regno Unito Insomma non mi viene And I will bring you some pins But in the meantime Spilla e mail Grazie Roby Yeah Mi scrivi dopo Della mail Perché la spilla Te la procuro sicuramente La mail me la scordo Sì mi scrivi su Discord Ti passo i contatti Mail che ho avuto io Per farmi le spille custom Diciamo And For those who are interested In my merch Maybe or my drawings Even if I don't take a commission You can take a look To my merchandise I have Hoodies and t-shirts And Mugs Pins And Poster But all the posters Are on Redbubble So you can Have two links Instead of Just one Or Motivi organizzativi Lo dirò in italiano E Ho un po' di merch Dovrei farne altre cose Amazon Bertha Sì Sure È la roba delle spille Lascia stare Mi ha cambiato la vita Perché comunque Vorrei tantissimo avere Del Più mercato delle spille In generale Però Ho visto che comunque È stata la cosa più venduta Del mio merchandise Perché adesso ho fatto la fattura Ed è andata D'addio È andata benissimo Tutte e due le spille Però comunque Devo Devo capire Come Come aumentare Il mio mercato delle spille Time to learn Some Italian And then Oh you're so sweet I I saw I saw Jerica Jeriku Yesterday During the Tomo Ariga Thanks I'm pretty sure That's the name Of the streamer Because I thought That was Kind of hilarious Because it was like Do Moari Domari Domuariga Thanks Oh Oh Dom Dom She takes an interview As a vtuber Ah ragazzi Lei è una vtuber Comunque Quelli italiani Che non lo sanno Cliccate Cliccate su streaming Andate a vedere Che figa Che è Facciamo così Facciamo così Un giorno Vorrei averti in live Assieme Perché credo Che l'Italia Debba sapere Questo pezzettino Di talento Italiano Che non è più In Italia Ed è andato Da un'altra parte Ma l'Italia ancora Non conosce Che cazzo Di figate fai Io vorrei tantissimo Un giorno portarti qui E parlare un po' Di italiano An Italia In interview Ho scoperto che seguivo Già di ericù So fermo Non ho tappo Nemmeno Viva le vtuber Sì Sì Ragazzi Sì Comunque sì Grazie Di shout out E Direi che ho fatto Le presentazioni So guys Thank you Again for joining The raid You are So sweet For staying here Even if you Maybe Will not understand A word In italian But If you want To join us During this Genshin Impact Which basically Is all in english So you can Even understand All the game You are so welcome And feel free To speak in english In chat If you want You will see Italian words But don't worry I can understand you Tu segui qualche vtuber Sì Ne seguo un bel po' Sì 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 Lascia aperto l'urco A bit Palestra Buona palestra Grazie ancora del raid E Torniamo a fare le mega missioni Allora su Genshin I'll try to understand So this Close To this Close I can count in italian Does it count? I don't know S guy Show me Show me You are I'm testing you Right now I can Somehow Understand Pepino I use Hands Because I'm italian So maybe you can Understand me It's not a meme We speak like that In real life It's so true I will try to understand Italian soon Thank you guys Thank you for Your Kindness E io non andrò in palestra Perché sono Unfit 1,2,3,4,5 Oh Italian 1,2,3,4,5 6,6,8,8,9,10 This guy just passed the test He says Or she says Or them says That he Them can count They can count In italian And he did it Non so Usare bene I pronomi Diversi O no È così facile In italiano Fare il vago Comunque sì I miei due frame Di Pepe Che applaude Ok Lavaria subito Tra l'altro ragazzi Se volete Anche voi Adesso parlo con In italiano Se volete anche voi Farmi una chiacchietta Comunque c'è Legil Che parla italiano Ma non è italiano C'è Sans Che è brasiliano Che ho Da lui ho imparato Bom dia For the Brazilian people I've learned Bom dia From my Brazilian fans Se volete Parlotate anche fra di voi È sempre figo Quando viene qualcuno E parla l'inglese Come 88 bit Don Palombi Comunque qualcuno In inglese C'è qui È sempre tipo Prezioso Non sei l'italiano Ma sei qui In inglese è semplice Basta dire They them Se vuoi essere vaga Ok Ok Devo dirlo sempre Anche se il pronome Non è they them In effetti È Ma tanto la best È molto Tense Beh sì Ok Let Let riprenda Non so come si dice Dunque Datemi un attimo Che effettivamente La camera è un po' Stortina E poi Usam Fa il colpo di stato E non è il caso Visto che ne sto già Seguendo uno Oh Spoiler No scherzo Allora They them Va bene Se parlate in inglese Andate anche ad 8 Don't follow Music Sono simpatici Se non stai Girare di una persona Posare they them Ok Perfetto Andiamo Allora Allora Finalmente Conosciamo la signora Kamisato Mi pare di statizia Io non so chi è Però la ricona Di Nazuma Sostanzialmente Però dov'è Dimmi un po' Ma è il vaso Oh Behind the screen Ho dentro il vaso Ah Quindi lei li riceve Dietro a una tenda È la principessa È la princess Così le temere Le tradizioni Vigili commission Perché Is this a welcome surprise No no Tra C'è nel senso Capisco che sia tradizione Ok Ponti climatico Esatto È il fiore Ok È molto importante Quindi non può rovinarsi Guardandoci Mi hanno piaciuto un botto Per vederti in effetti Però Ok Non ti possiamo vedere Immagino che Le usanze siano Che siccome sei Principessissima Non siamo All'altezza Di vederti Ok Eh Sì Ho fatto Grandi figate Quindi lei Non è d'accordo Con il decreto Della ricerca Delle visioni Perché pensa Appunto Che le ambizioni Siano così Completamente Annullate Cioè una persona Non può avere ambizioni Secondo la ricerca Non è d'accordo Non è d'accordo Non possiamo rimanere indifferenti Con la situazione Non è che è una cosa Che non ci riguarda Sostanzialmente Non sono qui Per fare una ribellione Voglio solo incontrare La Raiden Shogun Cioè Quello è Far Cry 6 La ribellione E come Allora Intanto Vaffanculo Doma Cioè nel senso Ma mi fate camminare Forse a malapena Sulla vostra isola E ma devo far partire Una ribellione Come vi avevo detto Ho capito Ma Cioè Non sono ancora Cazzi miei Nel senso Oh Però Gli serviamo Dai fatti vedere Dai fatti vedere Cosa c'è Sono il genio Vuoi che ti esaurisco Tre desideri Immagini In a battle Cosa sono questi Desideri Oh mio dio Che è successo alla luce Perché si è parcheggiato Un camion Con gli abbaianti Fuori Ok Ok Una volta che Le avrete incontrate Aspetta Devo incontrare Tre persone La cui visione È stata presa Una volta che Le avrò incontrate Capirò Bottle Progetto così È pericolosissimo Cioè Tre Rebellione Nop 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 Fellow Readers Take a look On my Moderator messages If you want Esprit Esprit Dacci una mano No Devo trovare Mio fratello Inculatevi Esprit Ho traverso un po' Di bastardo Alla fine Però effettivamente Non è che arriva E fa l'eroe È abbastanza onesta Come cosa Un Un guerriero Che guarda Un villaggio Un Former samurai Che ha Aiutato Carry out Vuol dire Division of the Kree È un master Delle spade Determinato Ad essere Il migliore Nel mondo Ok Dove incontrare Questi tre Una volta Che li avremo Incontrati Avremo voglia Di ribellione Ok Io li incontro Tu mi fai incontrare La Shogun Raiden Va bene Ok 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 Questo Questa eternità No Dov'è Dov'è finita Da dove ci ha parlato Come dove Dov'è Era veramente il fiore E sai che ti dico Io ti rubo in casa Che mi prega Tutti sti libri Ma voi ve li leggete I libri Io capisco non schippare I dialoghi Perché siete dei bravi Ma voi vi leggete Anche i libri Che ha aiutato A svolgere la missione Quindi ok È un tizio Che si è pentito Ti aiuto Con la ricerca Delle visioni Forse non mi ha portato Niente di buono Oh Casetta molto carina Però non vedo La cucina La sala da pranzo Però c'è un botto Di spazio Per dei set Di streaming Secondo me Ho ancora tipo 300 ore di roba Fai mica mi metto A leggere libri Già Non rubare in casa sua Eh ma Sì la principessa Se ne comprava Poi Ci sono un po' di cosine Poi mi devo mettere A vederle tutte Però non ho capito È la Raiden Shogun Che non vuole le visioni Qua chiedo Magari Leggerò solo l'Erican Perché magari È spoiler Non ho capito È la Raiden Shogun Che non vuole le visioni O è l'Archon Che non vuole le visioni Quello non l'ho capito O l'Archon di questo posto Che non vuole le visioni Claim 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 Mettiamo la principessa A fare streaming Sì C'è La commissione Di Di questa Non ho seguito La fatica Non so Lasciamo rispondere All'Ericats Cioè dal discorso Di Toma Eh Robby Ma non ho capito Toma me l'ha fatto Perché io non sto capendo Se sono la stessa persona Oppure no Perché Se la statua Se la statua La Raiden Shogun E io Possego in questo momento Pulato la Raiden Shogun Non c'è Zecca na fava Non c'entra niente Non sono uguali Quindi o me lo hanno detto Oppure devo arrivarci io Ma leggi La Raiden Shogun È l'Archon Ma perché Mi è stato detto La Raiden Shogun Uguale Archon Ma perché Toma Mi ha specificatamente Detto Che la Raiden Shogun È l'Archon Ok Non è un collegamento Che devo fare io Ok ok Perfetto Scusatemi Perché usano due nomi Allora Scusate Questa è una domanda Lecita O non devo ancora Saperlo Adesso stiamo incontrando Il primo Che è Il guerriero Un guerriero in pensione I sovrani delle varie regioni Sono sempre degli dei Ah per i nomi ci arriviamo Con la trama Ok ok Perfetto Perfetto Cosa stiamo facendo Tutti gli Archon Ce l'hanno Tipo 20 Come si Ah no Beh 20 è Barbados Tipo E Zong lì è Il drago lì Che era Lo chiama Morax È vero Mica sono i sovrani Però sono l'Archon Ok 20 Barbatos Zong lì Morax Red Shogun Cos Sì Red Lapix Ok Red Lapix Morax Io sapevo Red Lapix Red Lapix Perché purtroppo Allora il mio problema in questo momento è Purtroppo Avendo dovuto Fare questa trama Molto dopo Io so delle cose Di questa trama So dei nomi Vagamente Che non sto mettendo insieme Appositamente O che non sto capendo Mettere insieme Quindi sono nomi vaganti Che probabilmente Io mi sono anche spoilerata Delle cose Ma come post it Che stanno cadendo Un po' tutti quanti Su quello sono sempre Molto safe Per esempio Mi è stato detto Qual è il boss finale Di Dark Souls Anni fa Però comunque Quando ho giocato a Dark Souls Non sapevo Quale fosse il boss finale Ed ero tipo Ma gatto Mi hai fatto spoiler E lui mi fa Ma se ti sei vista i miei video Lo sai già Chi è il boss finale di Dark Souls Faccio sì Ma non me lo dire Una roba del genere Ehm I bambini sono disperati Perché non li porti fuori a giocare Ti prego Riconsidera Bellissimo Ti prego Riconsidera Ok Questo è il tizio Che ci ha detto Sayaka E mi immagino Tre tizi spenti Senza forze Senza energie Praticamente Tre universitari Stiamo andando a incontrare Uno in legge Uno in Giurisprudenza No Sì Un legge Uno ingegnere E l'altro Bo Ingegnere informatica Ah Devi essere qui A convincere Tejima A restare Ma Mi dite cosa è successo Magari Prima Ha fatto questo posto Da quando ha 30 anni Guarda Se non fosse per i capelli bianchi Direi che ha 20 anni Quindi che è qua da 30 Vuol dire che ha almeno 30 anni Però più di 30 Non gliene davo Quindi grazie signorina Di questa informazione Ha tenuto fuori Tre su roldi Che sono sempre Quei pari contadini Che arrivano E ti buttano la terra in faccia I mostri Un eroe Insomma Lui era proprio Un buono Vi difendeva Ciao Dice Andrea Alla prossima Ah Sono gliene Dice subito Ok grazie Sì Guine Beh però adesso Può arriva E vuole andare via E Non possiamo Aiutarci Dove di restare Dove vuoi andare Cicino Fatti la pensione Cicino ha ragione No no Non mi perdo nulla Ha combattuto per 30 anni Quello mi raccontano Sai quando c'è l'eroe Tra l'altro parliamo di lui Con lui presente Lui era fantastico Lui ha combattuto così tanto C'è lì dietro Ah 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 Che mi frega Io voglio andare via Ciao No Quindi da quando Gli hanno portato via La visione Lui ha cambiato No 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 Non sto schifando niente Non è vero Eh si Ok Vuole diventare un viaggiatore Un Non viaggiatore Un Vagabondo Vagabondare Wanderer Grazie Delion Per i 44 mesi di sub È andato fuori A farsi una passeggiata Circo Navigato il villaggio Un po' di volte E A un certo punto Non mi vorrei dire Il blu Ok Dopo una passeggiata Ha deciso Un'anima aperta Un'anima aperta Giramondo Ma adesso Ma adesso vuole andare via Dopo essersi Fatta una passeggiata Mi sembra un Ottimo ragazzo Adesso Tocca a lui Parlare Dimmi la tua storia Ciao Tejima Come? Dici Dici un po' Dove vai di bello Di colpo Ma come? Ma perché le rocce Volano lì dietro? Ma che succede? Beh Sei stato qua per molto tempo Molti dipendono da te Ma non è il motivo Per cui ho scelto Di restare Ok Perché volevo stare qua? Cioè non è che adesso Voglio andare Ma è che non ho capito Perché sono rimasto qua A proteggere Non posso ricordarlo più Ok Madonna santa Qualcuno ti ha preso I ricordi? Di Oppure non ti ricordi più Perché al tempo Anguine Anguine Aiutiamo a ritrovare La ragione Per cui sei rimasto Qui Non te ne andrai Ma lui che se ne va Non vorrebbe dire Cambiamento Parcuno non vuole Quanti? 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 Oh Andiamo a leggere il diario Andiamo a leggere il diario E dovevamo arrivare noi Per fargli leggere il diario Dolci nonnini Questa è la vera domanda Dobbiamo trovarlo Questo diario Beh sarà in casa tua Troviamo gli indizi Allora Questo è un indizio La lavanda No Quello è il diario per terra Ma lo tieni per terra? Chissà dov'è Voi trovate il diario E noi andiamo ad informare il villaggio Ma è spritta Sta lì su un portico Sono ricordi carini Sono le volte in cui La giornata è stata divertente Per degli errori O quando ha risolto Un problema Qual è il minimo punto Di un nominatore? Che triste L'ultimo Ok Oh Omamori you gave me Chi ti ha dato cosa? Chi parla? Perché parla di you Nel diario Per se stesso? Andiamo a visitare lo shrine Chi è you? Chi è you? Shrine 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 Where is it? Where is it? Shrine Io dietro Ok Cosa hai da dire? Esamina Bling bling È vero Ok Credo Un po' forzata Allora 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 Vediamo un po' Ma che si faceva? Così? No Così Allora Un po' di tracce elementali sono rimaste Che sono qui dentro? Che sono qui dentro? Perché non sia dopo 30 anni Perché non sia dopo 30 anni Una lettera Ha sotterrato una lettera Chi è you? Se ci dovessimo separare durante la guerra Aspettami a Konda Village C'è una Ci sarà una casa sicura per noi lì Konda Village Sono sua mia Dov'è quel posto? È qui Oh no Di nuovo Ciao dimmi Diusami Aspetti Io non sto capendo Quale di queste frasi O parole di trigger Oh no Chi aspettava? Arrivo eh Voglio saperlo Giuro che voglio saperlo Ma prima Sono venuto rompire i coglioni Come on Come on We can do it There's more Perfect This Yahoo Think you can get away Death See no more Ah Sono troppo pesanti No In effetti Non sono troppo pesanti Fanno i pochi d'artificio Fanno i pochi d'artificio Allora io mi faccio toccare terra Chi è Chi è È io Ah sto qui Ah Ok You In senso You told me Chiaro Chiaro Oh no Che è Che è Bello che la fanno i commenti Sul loot Ah Vedi Vedi Molto Ottimo Là c'è un coso Però è Cosato E quindi non posso cosarlo Se avessi un cosino Potrei cosarlo Ma prima devo cosare la missione Un attimo Chi ve lo sai che non mi sono a 45 Dovrei tirare su il livello del mondo Ma c'ho la caga di non avere abbastanza personaggi forti Quindi Aspetto un attimo Q Trent'anni fa Ehi sei venuto qua E qualcuno l'ha detto Però in the use E c'era una casa Per restare al sicuro qui Quindi qui sei rimasto ad aspettare Ma Ma non ti ricordi più Si è segnato tutte le cose carine Che ho detto Vabbè un giorno quando arrivi Poi te le racconto Ma te hai 35 anni massimo Quindi a 5 anni stesse La sua ambizione Che mo' sono i pomodori Cosa? Chi era? Chi era? Chi era? Allora vuoi ancora andare via? Dai magari te lo ricordi Eh Capito ma che arriva Mamma mia Si incazza di brutto Non lo fare Questa qua Anche io mi sento un po' triste Veramente triste Questa storia Sto leggendo eh Non lo sto schippando Perché Ecco Prima del dialogo Che Viene recitato La ragazza Che Che Wow, deep! Sì! Sì! Andiamo alla prossima persona! Let's go! Ah, il posto è il samurai e poi l'altro è un master di spada che voleva diventare il miglior all'elatona di Pokémon e poi ha smesso. Qualcosa del genere. Ok. Ok, se lo porto qui riesco a fare questa cosa qua. Ahia, ahia! Ahia! Ah, sono io. Comunque l'altro ma le prendo, eh. Dai, dai. Mi prendo un po' di... Mi prendo un po' di cose così. Voglio mettere Bennett, forse, come healer. Ahia! Eh... Spacchi coletti, yes! Mi ha troppato qualcosa, sì, io voglio Mi sento gasata, voglio andare lì Dai, prendili tutti, mamma mia Questo, questo No, dove lo mandassero, perché? Mi trevo Guarda, ho verde in chat, comunque, sì, veramente Ah, c'è prima io, bro Via Esplodi Intanto vi faccio queste mini esplorazioni che sono la portata di mano, quindi Scusami, aspetta, 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 ma se È vero, Zongli mi serviva a questo Io faccio questo Va, prendo tutto, eh sì Sì, perché mi ricordavo che qui non funzionava sta tecnica con le robe elettro, ma in realtà no l'appunto è «Abbiamo stare problemi» «Abbiamo arrivare» «Angelo» Così che, cioè, quello lì Se io faccio fuori questo... No, funziona. Va bene, va bene. Quindi li spachi solo col fuoco. Ok, va bene, va bene, chiaro. No, va bene. Sono due minerai diversi, ah, ok. Ma perché è lì? Ma dove cacchio me l'hai messo? Devo salire. Ma guarda il dead zone lì. Allora. Vai. Vai. Teleport! Col fuoco lì ci devo andare, oh beh. E c'hai ragione. Il tuo odore di missione. E di point of view? Click. La missione, la missione. Prendi la tua missione. Come è Big Sis? Ma chi sei? Mari, sempre, mari, semi, 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 semi. Big Sis. Berto, yes. Schippo. Ah merda Find the temari Insomma anche che cazzo è Posso trovarlo un po' così? Ma mi interessa così tanto Dopotutto trovare un temari Ma poi è fisicamente un temari Attenti no Voglio solo accettare sta missione e portarmela via Poi ancora M6 Ok Le missioni secondarie io le Le accetto e via Non faccio troppi Ah il canto di ventilanza vuol fare un'altra volta Grazie sì Quindi sono tutti dei corrotti Ma vogliono veramente La principessa del posto non vuole fare questa cosa Ma il dio del posto sì E si è anche trovato dei sottoposti Ora il primo si è dimenticato Perché era triste perché è rimasto nel 30 anni Il secondo Da dei fuggosi scrigni Andiamo a vedere che succede Sì Withold Che vuol dire Withold Oh quanti segui su Twitter? Grazie mille Ha intenzione Ha intenzione di trattenere Le provviste d'emergenza Abbiamo bisogno di cibo Ti prego Dacci una situazione Non ho idea di che cazzo state parlando Così prenderci in giro Non essenziali Capisci? Non possono essere presi da te Se arrivano questi E volete fare tu quello che volete Mi sentiranno Ma voglio Speak to your manager E mo chi è questo? Cosa Ma che cazzo vuoi? Sto passando Voi botte? Ok Ok Oh ma stavo cercando Oh Mentre trasciugano armi Ok Lui è responsabile Per la distribuzione Delle provvigioni Adesso di colpo Non lo fa più Prima lo faceva Adesso no Morriamo di fame Se vuoi lui Oh no Ha mostrato I true colors Non è strano Che gli abbiano confiscato La visione Non ha bisogno di gente Come lui Che ruole la nazione Ma quindi Quello che poi mi dice Ma è Ma perché questi Se vogliono Cioè Prima prendono Persone con loro E poi gli tolgono La visione Anche ai loro alleati L'abbiamo trovato Tra l'altro Se mi date un secondo Vado a prendere Dei KitKat Arrivo subitissimo Offtong Dimelo ancora Che ha detto Esmen Jacopo Grazie terzo mese Iai Grazie mille Ben tornato E Gigi Ho bentornato Anche a te 52 mesi Di sub Raga fate partire Un hype train Che vogliono Nuove emote Dai Arriva Arriva Nuove emote Ho un blocchetto Libero We are those Who share the memory Almeno Zongli Ci ha fatto compagnia Vi passo un KitKat Viene Prego I want to share my food With you Posso prendere un pezzettino Prego 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 Dove metto Non c'è ancora nuove emote C'è uno spazio Ho messo una nuove emote Animata Se vuoi Grazie Prendo ringrazio Prego Prego Allora Bro Che succede Perché non dai più il cibo Alle persone Intanto Ci presentiamo Robi Mero di cena Ma le sei Ma che sei gatto Ma esatto Tanto tutta la chat Sta prendendo un pezzettino Jun esce dall'urk Prende il KitKat E torna all'urkare Come se ne sto preso Quello Stip Le forme Ah Se ero quello Che dava le provvigioni Sarei ancora Il povero uomo Che sono adesso Ma che te lo sei Abbiamo saputo Che è stata la tua visione E quindi ha creato memoria Dietro il gatto Uff Che l'ho visto Di questo stronzo Non si vado a mangiare Nooo Nooo Ma perché Che hai combinato Stai aiutando quelli A prendere le visione E ti hanno preso Lato Ma che hai fatto Ma perché Hai proprio dovuto Non ricordo i dettagli Io ti ho perso Tutto quanto Amore Come se qualcuno Mi dovesse Qualcosa Io che sto letteralmente Cenando ora Ma tranquilli Vi sto prendendo Un giro Ma quindi Ma sei tipo Povero Poverissimo In effetti Ha senso Non è che sarebbe Povero D'altronde Se finora Se ne occupava lui Non è che gli credi Ho perso la memoria Sì Vabbè bravo Dai dammi il cibo Ok Poverino Vediamo se è vero Dai ma crediamogli Va bene Se abbiamo le tesori Ma Passiamo per quella cesta Guarda che c'è lì C'è un Simon Oh no Oh no C'è una trappola No Ma loro annegano se stanno lì Non credo Non credo Oh ma anche questo Vediamo E muori E' pieno di debiti Questo poverino E' anche Lo noto Poverino Questo Weather driver point Unlocked Oh Quindi Che fa Che fa Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Che fa Più Più Peù Peù E mo Quindi Com'è scendo Com'è scendo Evochi la barchetta E come Come vado via Com'è scendo dalla barchetta No Non ho fatto Assolutamente niente Di estivo Ma figurati Se in estate Mi sono divertita Premi spazio E ho il pad Vieni premuto A No aspetta Ok Oh wait Sono cazzata Perché potevo arrivare lì prima Oh beh Oh beh Il tasto del salto Hai made a mistake Allora Vediamo là Oh Cistina Qui c'era una big chest Ecco Così Ah no Giusto Xbox Eh sì Ho il Come sto perciò Sono looting Kurosawa's house Come spaccare di botte Esti stronzi Come si permettono Dove sono Starry Assert Dov'è la casa In che senso Ma no Volevo fare il Volevo chiedere a quelli Che mi stanno rubando Casa In questo momento Come You haven't seen anything yet There will be a lot more Where this came from Ah picchiamoli Today is just the beginning I'll be leading you all On an epic journey Of pillage and plunder That will go down And hoarder history Ah hai ragione You don't Molto comodo però il pad Preferisco quasi sempre I pad dell'Xbox In generale Perché sono più ergonomici Insegniamoli Le tabelline Allora Quanto fanno 9 per 7 Più Poi Poi faccio Marchio Sì Marchio Sì Marchio Sì Marchio Dopodiché Faccio Questo Sì raggiungo La ulti Faccio la ulti Dopodiché Faccio la ulti Così Boom Mega esplosione Insegnagli a contare I denti per terra Cicciuli il cibo Bastardo Vuoi Vuoi Gioinarci? No Dici Di Kurosawa Chi è? Cosa fa? Perché rubate? Cosa avete trovato? C'è un diario Eh? Hai rubato Le provvigioni? Questo posto è un disastro Abbiamo trovato Un box Un qualcosa di valore Ok Dacci il box E noi li lasciamo Va bene Va bene Paimon Fai tu Cosa c'è Dentro il box? Ok Una dick pic Due Sì Il song Oppure potrebbe essere Una sub al 20% Di sconto Ok September Oppure Oppure I.O.U.S. C'è un Yusam Sai che c'è dentro I.O.U.S.? Ma che è? Ma fatemi vedere Non ho capito Che c'è dentro Parliamo di un sacco Di mora Io non ho capito Sperate di non Incontrarci mai più Ma dentro c'è il nostro Sponsor C'è il NordVPN Ma sei Cazzo Sirei bravissima Infilarci NordVPN È il servizio Che ti permette Di navigare In sicurezza E andare Con i tuoi server In altri paesi Puoi fingerti Australiano Americano Persino Giapponese Quindi tutti i tuoi programmi Preferiti Di streaming Per colpire questa volpe In qualche modo Non esiste Che tu È andata via Quella è L'offerta Di NordVPN Se siete abbastanza veloci Invece voi Potete beccarla Rosawa Quanto è pallo dopo Cagnolino Cagnolino Guarda che loro mi seguono Guarda che belli Wow Wow C'è dentro la PS10 Sono documenti informali Di debito Azz Quindi His broc His broc Broc Coraccissimo Mi spiace Cioè letteralmente Rub rub Investi Investi Ho trovato un libro Che non leggerò mai Bellissimo Suo fattore Tasse Eh lui non le paga le tasse Quella è la razza della macchina La bolletta della luce Un cagnolino Andando qui dentro Scopriremo Finalmente Tutti questi debiti Sono In che senso Ecco Grazie per la cash Però Queste Io uso Ah Quindi pagherete voi Eccola E' buona Veramente Buonissima Esatto Perché si è indebitato Con te Oh Era lui Oh Era lui Che comprava tutti Si indebitava Per dare il cibo E poi non è stato più pagato Ah E' tipo credito E loro ingratissimi Sono liberato Brutto stronzo Dacceli Mai mi sono indebitato Per voi Poteva solo Comprarne meno Ah Ormai si erano fatti I loro calcoli Quindi Che poteva dare di meno Voleva deluderli Però Ho incauto Nessuno L'ho apprezzato Madonna Ma queste storie Vanno piangere Oh L'attitudine delle persone Riflette le loro circostanze Oh Però Effettivamente Se fosse stato onesto Fino all'inizio Non sarebbe Così in debito E' buon Sta a posto Ti fanno le missioni Tu come stai? Qui stanno scorrendo Anche i dialoghi Non li schippo Perché E' abbastanza Intrigata Io non se lo ricorda Però Sto vicino E' stata confiscata Nooo Dovranno vendere la sua spada Se non ridere i debiti Lui ha una spada Veramente Valutabile Che costosa Se la tiene da un botto di tempo Un regalo Un regalo del padre E' stato troppo prezioso Beh ragazzi E poi Pure la spada del padre Che gli sta per essere confiscata Per i debiti Per aver Cibato Una città Intera Ma cosa è Gesù Non gli hai mai fatto un'offerta Perché è tutto un prezzo Hai capito Vuoi prendere le mani su quella spada Mi voglio chiedere la spada Se potesti pagare la Ma noi non abbiamo comprato niente Ma vuole Che gli pagano le informazioni Ma vuoi Ma vuoi Mila Moira 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 Orfei Che hai però Dillo prima Madonna Infamissima Dovrebbero convincere Ad aiutarli Se non fanno piangere Queste missioni Non funziona Assolutamente vero Faffanculo Non ti compro mai più niente Dillo prima Che ti vuoi far pagare Almeno sei più onesto Oh Mannaggia E' braccino corto Sì Che si faccia una ley line Così si prende un sacco di moira Oh no Oh no E' arrivata altra gente Ah no Ok Lo stanno lasciando in pace Bro La tua spada Io solo Dove sono andate Gli altri due Ah Non se ne vanno Sfodro la spada Eh se ne sono andate Dovrei Darla più spesso Allora Sì Ma Ti devo spiegare un po' di cose Cioè Tu ti sei indebitato 2.000 2.000 Ma io ero Fai Tutti in castore piccole piccole Dentro un sacchetto di stoffa Esatto Che è stata una donazione Un balletto Offre un balletto In cambio D'utilizzo della roba Come messaggera Barze Risolto o bestemmia Beh grazie supporto Grazie di avermi pagato Queste informazioni Adesso Chiediamo a Barze Se bestemmia o risolto Grazie Grazie Mi pagate le informazioni Pagate i messaggi Avrebbe sfodrato la seconda Casa Psyco 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 Ho una teoria La teoria è che Essendo che Sentite qua Sentite qua la mia teoria Vediamo se c'è zecco Queste cose non le so Non le sto teorizzando Perché le so Lainette Grazie del ride Ma ben arrivati a tutti E ciao ribollente Benvenuti in questo streaming Della missione principale Di Genshin Impact Sentite la mia Cambiare in Spyco Quando vorrei cambiare Spyco Ragazzi Mi sono fatto un giro Che dice Che dice In alcuni momenti Sono depressa Stia con noi Stia con noi Stia con noi Stia con noi La gente Vuole Vuole Trovare risposte Semplici A problemi difficili E quindi Vale Comprottismo Questo per quello Funziona Per quello funzionano I politici La mia teoria è Che La tipa L'Archon In qualche modo Allora Perché la mia teoria è Non è che hanno Dimenticato Che cosa sono Perché prima Era in un modo Adesso se lo sono dimenticato Ma che prima Dentro di loro C'era un'altra persona E In tutto questo tempo Secondo me Secondo me Ha voluto Mettere dentro Quella persona Un'altra persona Tipo Troppo buona O troppo Non lo so Mi sembra un favolette Il tizio che aspetta Tipo per 30 anni Questo che distribuisce Indebitandosi Secondo me Secondo me C'era un'altra persona Dentro di lui E quando Gli ha tolto La visione Non c'era più Quella persona Che si comportava In quel modo Perché non ha Molto senso Che Si è dimenticato La sua ambizione Viene da sé Però magari La sua ambizione È stata in qualche modo O impiantata O qualcosa Quindi come se Il suo corpo Fosse stato ospite Di un'altra coscienza Che si comportava In un altro modo E quando si è tolto Lui non si ricorda Perché faceva quelle azioni Come se non fosse lui A farle Questa è la mia teoria Lash Grazie a 22 mesi Si rinnova pure Anche se è sempre meno presente Però Di nuovo Il rinnovo Tocca per forza Si vuole bene Robby Sono teorie Poi ovviamente Voi lo sapete In quel minuto Ce l'ho azzeccato un pochino Dunque Però no Aspetta Questa va la spada Del padre Magari Però non c'entra Con la storia Non lo so Ehm Questo senso In un po' Di sommare Ecco Sì Ah Quindi in qualche modo In qualche modo Non vuoi Non vuoi tirare Posare un'occhiata No però I ricordi di prima Sennò tutti aspettando Sigson Beh quel tizio Di che fissa il muro Sta aspettando Sigson E' quello che faccio io Quando chiudo lo streaming Fisso la vernice Aspetto Sigson Perché Oppure Oppure togliendogli La visione Ha In qualche modo Prelevato anche I sentimenti buoni Oppure Allora Di sicuro Gli ha tolto Quelle cose Perché il suo Modo di fare I modi di fare Di entrambi Probabilmente stavano Attuando un cambiamento E il dio Non vuole i cambiamenti Quindi Quello che facevano Era talmente travolgente Talmente figo Avrebbero davvero cambiato Le cose E quindi Li ha stroncati Quello mi sembra Abbastanza chiaro Il motivo per cui Ce l'ha detto E me lo stanno dimostrando Il fatto che Gli tolga anche Le memorie È un po' strano Se a me Mi posso Fai vedere la spada I bimbi Magari Li tagli in due Cosa aveva detto Non me lo ricordo Da quando Mi ho tolto Da vicino Ho dimenticato Un botto di cose Con questa spada Dovresti Ci sono delle parole Virtù e giustizia Virtù e giustizia Era la tua ambizioni Fari altri content He zoom E ti ha dato un po' male D'entrambi i fronti E mi sento in colpa Per averli minacciati Con la mia pistola Capito Non ti lascia un'impace No No Con questa spada Dovresti provare L'offerta Non mi viene Infatti Diciamoglielo Losing a vision Eh Non ho un'ambizione Oppure sì Oppure ho troppe ambizioni Io ho un botto di ambizioni Troviamo l'ultimo L'ultimo è I wanna be the very best Ce l'hanno presentato così Like no one ever was Andate qua vicino Da un tizio Un sword master Oh no il sensei Che ha Non ho fisicamente una vision Ma avrò un paio di ambizioni Come persona Traveller no? Io non si è mai fatta battere Ma questa volta È stato posseduto Andiamo a fare un esorcismo Beh ci sta Ha ragione Ciao ragazzi Qualcuno ha parlato di esorcismo? Eccomi Tranquilli 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 E lui è stato posseduto No no siamo di qua Siamo tra i viaggiatori Ok Ah vabbè tranquillo Tranquillo Non è un problema No È stato posseduto Ma io Non andrò via Finché non lo chiamerò Mio sensei Sei Cape Imon Non posso averlo detto io La mia unica ambizione È un Sì non è un'ambizione Non è una cosa Che se raggiungo È un Develop di me Cioè non lo so Non è È più un Ok Task numero uno È un'ambizione Magari è diventare Come mio fratello Ma trovarlo È più un Ok Lista della spesa di oggi Ok Domon Sì Aspetta L'abbiamo già sentito Senti cosa Ho potuto stoptare Non bring Vola a passo È veramente Quel pentacolo gigante Ma lui è l'amico Dell'altro Spadaccino D'aria Tipo Perché Non due Spadaccini Sono due Spadaccini Amici Ok L'amico di caso È morto Ma era morto Mio dio è vero Mi ha fatto vedere L'episodio Non mi ricordo Perché mi ricordo Benissimo Che era andato Era con il mio amico Ma lui ha incontrato L'amico Ha incontrato L'Archon E L'Archon L'ha seccato Gli ha tolto la visione L'ha tolto la visione Ma perché si parlava Di visioni Non l'ha seccato Era per dire Che lui Non aveva le proprie visioni Sì no esatto Ok L'ha ucciso L'ha ucciso Perfetto Perché si parlava Della visione Lì al torneo Delle visioni Quindi pensavo Gli avesse tolto La visione Tutto questo Delle visioni Mi ricordo Mio amico Che ha perso La visione Tutta questa gara Delle visioni Mi ricordo Mio amico Che è morto Come? Kazuo A posto? Ok Non è un'esorcismi Non è un'esorcismi La sminostata Come delle carote rondelle Molto bene La Julianne Dell'amico di Kazuo Kazuo Ah lo potete portare A fare l'esorcismo Veramente Se ho i miei dubbi che funzionino Wow Ok Fate gli esorcismi Qui Sì In effetti Ci siamo passati Oh È un posto importante Vicino agli dei Ok 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 Questo pomeriggio Verrà l'esorcismo Potete venire a vedere Ma che Ma scusa Ma io non spettacolo L'esorcismo Ma vorrà la sua privacy Poveraggio Poi come funziona L'esorcismo Lo legano a letto Venite a vedere Che esorcizziamo Il sensei Ma no Ma stanno in cazzo i suoi Aspettiamo Questo esorcismo Bene Qui o lì sopra Scusatemi Era lì sopra O chiamavano Quelli da sopra Vabbè Non importa Aspettiamo Le Sei Eh andiamo a vedere Ma certo Gavettoni d'acqua santa Allora Sono Le sei Momento Scusatemi L'accendo con spettacolo Inizio adesso Sono le sei Quasi le sette Mi sono portato un pannino Perché alcuni della mia ciotta Mangiano le sette Ti va bene? Mi sono portato tipo Boh Mi ha morta Bella Ok Ok Scusatemi Di nuovo Qui sono le persone Le ha spinte Oh no Ha detto delle persone E poi ha iniziato a Impazzire A coprirsi le Le orecchie Ha continuato a chiamare Quei nomi Persone che ha sconfitto Anzai Era un Seguace Ma quando l'ha sconfitto Quello è diventato Un Viaggiatore Da quel momento Eh ma magari voleva scoprire Il mon Che ti sentirei colpa Ok Ok Io mangio Il quando è un optional Esatto in fondo Vabbè le sette Ok Dai a vedere sto 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 Vado a cercare un po' d'acqua Che se si sveglia Sarà Setato Oh Paimon Ma No È il sensei Che è assolutamente Identico al tizio Dei trent'anni Scapolo Ma senza ciuffo Oppure Oppure Allora è il sensei È qua per disturbare Non è lui che è scappato Però sembrava un tizio Chi cazzo sei Fammi Mani in alto È sotto il buco Ah dice di salire Dove sei? Dove sei? Facciamo i condi Tra i lec Non è neanche qui Se fosse È lui È lui È lui Chi sei? Quando ci fai qua? Che spi? Beh Io Ho circa dodici anni Tu Non ho capito Se trenta o settanta Dipende Sì 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 Sono proprio un disciplinatore Di Domon Un suo allievo Sta facendo quella Che tocca una porta Sta scrivendo Che fa? Sta assaggiando La qualità Di quel legno Queste venature Oh sì capisco Pure sta bussando Scusami Noi facciamo le domande Chi sei? Che ci facevi lì? Excuse me Minchia Poi non so Passassi Bad news I'll have you know I train side by side With Domon Back in the day Sì allenavi con lui Ancora prima che tu Esistessi Oh qua comunque Domon e Domon senior Ah io sono Domon Oh Chi sei il papa? Anzai Anzai Ah Anzai Perché correvi? Ok Quindi sei andato Dove Domon Stava venendo esorcizzato La tipa dietro Dirige un coro Di tarme Vuole evitare Possibili discussioni Tra Sto osservando La porta Oh no La 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 Non fate caso a me Io sono così impegnata Questo legno Riesco ancora A sentire l'ascia Del boscaiolo Yes The wood Is made Out of wood Ma scusa Dazai Banzai Andai Dazn E mai Perganet E mai Pregante Ne ha 34 Nel sito racconta la sua storia C'è un video con te In settima Ma scusa 34 anni Allora li porta malissimo Che capelli sono Devo testarlo Per non parlare Le persone che incontro Che bel legno Massello Raga ma la chat Oggi Fa più ridere Del solito O Lunedì siete carichi Tutto il mana Delle battute Oggi Bravi Mi piacete Mi piace leggervi Anderemo a giovani Noi Ci allenevamo Sotto lo stesso Master spada Studiando Queste arti Insieme Io mi sono 5 anni prima E sono più figo Stills of my Freedom from all agitation Ognuno c'è le sue catchphrase Ok Oggi è stasera Che stasera Che stasera Era mega ambizioso lui Domon era differente L'arte della spada Non deve essere usata Per queste Che falle Ma io diventare Con questa spada Io voglio diventare Più forte Dovresti solo Difenderti Che palle Allora Difendiamoci con le parole Ma attacchiamo Con le armi Ah Ti stava raggiungendo Che stava raggiungendo Ha avvocato nell'attacco a questa moda della difesa Ha consumato il suo desiderio E' diventato mega bravo con il suo desiderio Comunque l'ha fatto progredire veloce Che non vuoi vederlo mai più? Sei genosio E' ricordo col talento E poi ero tu l'ho E' diventato il viaggiatore Cazzo ha fatto una lotta anche col sensei Ed è diventato talmente arrogante Che l'ha battuto e ha usato tutta l'energia Da quel momento non vuoi più niente a che fare con lui Lo rispetto Però Quando ho sentito che aveva perso la testa Ho detto Io non ho scoperto Prendo le distanze Ah lo stava chiamando E poi andrò a tenersi le orecchie Pensavo che il mio nome se l'avessi fosse dimenticato Volevo solo vedere con i miei occhi Ok Nooo ci siamo persi l'esorcismo Più cazzo si dissolga E' proprio una progamer che non salta i dialoghi Non poi li ho saltati ma l'importante è capirli Cioè tanto io leggo abbastanza velocemente Quindi non è che mi interessa che finisca la line Doppiata Che palle Ma volevo vedermelo l'esorcismo Continuare in live questa qua Sì 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 Io direi che questa settimana la possiamo finire Però volevo vedermi tipo Nooo no Voglio sapere Spaghetti Cannuccia blu Ciao Inaji chi sei? Non è posseduto? Nessuno impazzito da Passer? Agitare Nanako Oh davvero Io ho fatto tutto quello che ho potuto Comunque mi dovete un sacco di soldi Non c'è nessun demoni Non c'è nessun demoni Non c'è nessun demoni Non c'è nessun demoni Lady I è stile Non c'è nessun demoni Oh Lady I? Quella Lady I? E poi mi direi chi è? Boh Io non so chi è Nooo La testa dello shrine Dei Gran Nakami Quella persona È interessata? No vabbè Allora dobbiamo essere Veramente dei fighi Dobbiamo assolutamente portargliela Eh lei è esercita di brutto E lei non so chi è in effetti Oh non ricordo Non me lo dite Che guarda Iai? O l'ho dimenticato Oh dobbiamo fargli un regalo? Oh è trattato Dovete solo arrivare lì E lei non vi farà aspettare Oh 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 Andiamo a vedere chi è Lady Iai Madonna Quanto è stato fangirlando? Allora meno chiacchiere Più Lady Iai Più regali Mi piace questa cosa Voi venite pure voi Ok va bene Certo Comunque sarei venuta a spiare Ma wow Grazie E vedete chi è Lady Iai Quindi Go to Gran Nakami Stai in tutti Stai in me Lady Iai È lei E indovina chi è giunto Hai le porte Io Tutti amano Lady Iai Oh Lady Iai Chi è? Che faccia hai? Palesa ti fatti vedere Opla No non si è entrata Allora eccomi qua Ai piedi dell'albero Bellissimo albero Ok lui è sensei Vediamo quanti anni ha lui Lui ne ha 12 Manco la barba Madonna che bella È un personaggio Questa è un cambiamento Questo è un cambiamento Con la piazio della prensura Che Joy È impazzito perché ha perso un po' Ok Quando ha perso la visione Si è triggerato questo cambiamento Anche senza la sua ambizione Perché dovrebbe soffrire questo cambiamento? Beh, oddio Senza la sua ambizione Deve un po' affrontare la realtà dei fatti Ossia che è un arrogante Che ha voluto soltanto combattere Non è che ha ucciso nessuno Gli ha solo confitti Oh Lei sa tutto Puoi davvero rimanere non agitato? Ingeppo Yai ha la voce Arara Beh, senza l'ambizione Un po' c'è l'agitazione Anche se sono i suoi più fedeli compagni Quindi sì Devi fare ciò che i più grandi fanno E senza la tua ambizione Faccia a faccia con quelle che sono le conseguenze L'unico modo per superare la sofferenza di questi momenti Era l'ambizione Una volta che l'ambizione Va via Dubiti L'ansia Attacchi di panico E adesso lo vedete così Bravo, tre mesi Ciao bellissima Ciao Pavo, grazie mille Quindi niente Terapia gratuita praticamente sta facendo Lo sta dicendo veramente con una cosa tipo Ah, sciocchi umani Che hanno gli attacchi di panico Quando affronto le conseguenze Delle loro azioni Perché non ha cercati dalla loro ambizione Oh Dolci e piccoli Piccoli e dolci E va tutto padre Basta Come ci sei arrivato qui? Ma chi ti ha invitato? Non voglio più avere niente a che fare Ora basta Ma che ci stai seguendo a fare? Ma allora dillo Che sei un rosicone Questo Per spesso Sei tu? Oh Yeah, Miko Waiting room Tauri ciaia Come stai tra l'altro? Mi piace che per rendere una persona vecchia Gli mettono Due rughe qui Due rughe qua Fine Stop E quello dovrebbe passare Da avevo dici anni A circa diciassette Diciotto Con i capelli Prematuramente invecchiati Ma per il resto È giovanissimo Sono molto arrabbiato con te Ma non sono venuto qua Per fare casino Ma non sono venuto qui per scegliere un score Ma non sono venuto qui per scegliere un score Ma ci si scrive che avevo Oh Volevo solo vedere Iai Miko? Sì, siamo tutti qua per vedere Iai Miko Wait in room Dai, non hai fatto niente quel giorno È una forza Dai È che non potevo Resistere all'umiliazione Basta con questi sensi di colpa Dai Cioè non è colpa tua Dai, su Quando hai distrutto le loro ambizioni Te le hanno affidate Che è sta cazzata Non è vero Ma che ti sta inventando? Ma le persone non ragionano così Però ok, vabbè Proviamo a sollevarlo dai sensi di colpa Non possiamo mettere le nostre aspettative su di te È una piaga Però vai tra Cioè Vai fino alla cima più alta Te l'hai insegnato tu, no? Cosa succederebbe se capitasse a loro? Dai, ma fai l'eroe Ma che... Cioè, se sei ambizioso Comunque succedono queste cose È... È una scelta Ma è una scelta L'hai presa Con i secchi e con i ma Non ci facciamo niente Madonna, che main character moment questo però, eh Otamega Perché l'Erika Ha tolto un messaggio di Otamega? Iai Supremacy Eh, cuore nero Cuore nero ho capito bene A chi farsi stare simpatico Bella Inazuma comunque come... Come missioni Ti hai chiesto cosa ne pensassero? Eh, brutto vertinker Gli hai chiesto a loro la loro opinione Invece di rispondere tu Tito No, è Yai che ha incontrato me No, non è vero Siamo noi che mi abbiamo incontrato Yai Comun, arigato Ma questa me l'ha fatta piacere Da quando mi hai salvato le mani di pirati Io mi sono detto che ti avrei seguito ovunque per il resto dei miei giorni Ok, sono contenta che questa non è stata la prima missione Perché è tutt'altro che commovente Ma è soltanto tipo Oh mio Dio, sono stato così fantastico e ambizioso E ho fatto del male a tutti Ora mi sento così in colpa E tutti È posseduto Mentre è un overtinker con gli attacchi di panico Arriva uno di quelli che l'ha sconfitto Va Vabbè, dai mo adesso Cioè, ho capito, sì Ho rosicato Me ne sono andato senza mai più rivolgerti la parola E non avevo niente a che vedere con te Basta, vado a dire a tutti in giro che sei una testa di cazzo e mi hai insultato Però dai, cioè, stai su Ma, ma se io ho fatto questo Altri faranno questo Zitto un po', dai È ambizioso, fine Cioè, stai Che stai un po' Non lo so È così tipo Sono così tragicamente oppresso Dal quello che sono Le conseguenze delle mie azioni Sì Sì In ogni caso un segreto fra me e le righe anche lo saprei Ma come è Fury? Lei scende senza semplicemente a Red e me un'altra poi fu di Onkai E lui è un'altra storiella un po' Drammatica Le altre due erano più belline Più drammatiche Quando leggerti gli spoiler No, ho letto che ero in un altro gioco Cosa ho letto? Bene, dai Un tizio ha un attacco di panico Medioevo Is this possession? Ok Ok Bravi ragazzi Adesso ho capito Io Io sono fantastico E devo starci Devo essere fantastico per tutti voi Sì Io ti ho perdonato Devi essere fantastico E Nessuno frega un cazzo Dei tuoi attacchi di panico Calmati un attimo E vai tranquillo Comunque Yusa Volevo soltanto Farsi notare anche a te Che la tizia ha due orecchie Nel senso Vagamente potevo intuire la battuta Però Se mi dici che è spoiler Io capisco che è uno spoiler Però a me sembrava più un Ehi, ha le orecchie Come la tipa che ha le ali D'accordo Oh Lady I vuole parlare con me Scusatemi chat Scusatemi Arrivo subito Lady I vuole parlare solo con me Basta Se poteste aspettarmi fuori Per favore Grazie mille Grazie Ahah Ahah Sì 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 Dimmi tutto Sì sì Le tue intuizioni su di me Erano molto corrette Sì sì No no Lascia stare quelli fuori Non vogliono entrare Apri Apri la porta Cuore nero Apri Let me in Sbirce Ehi Mentre meglio Ci gioca Gashin Ah ok Yuzo Ma non è colpa di Yuzo È colpa di Mega Almeno Lasciaci Zongli Sì sì Poi vi lascio Zongli Il vento che Che blows Da lontano Porta Fresh vita In queste shores Contrarci adesso È prematuro Hai piedato Quest'isola Al momento giusto Molto bene Poi un giorno Ti piederò io Fermo Io ho il regime di dire Mamma Te chissà Esattamente Ok Ah Per essere di Yai Ma no Che dici Lo dici a tutti In realtà Non è che Che io sono speciale Nel senso Ovviamente è colpa sua No Tamega È colpa delle waifu Ah è così misteriosa Che palle che fai Non parla sempre in terza persona Andiamo da Kamisota A dirgli Bella la prima storia Bella la seconda La terza Che palle Madonna Zia C'è gente complessatissima In quest'isola Ma fatti Ma pagate Yai come terapista Perché qua veramente Abbiamo troppe cose familiari Da risolvere Molto bellino Il tizio Vorrei capire chi stava aspettando Perché Ma avete detto Domo sato arigato Lì E mi è venuta Kaka kaka kawaii La cosa è più brutta Ma è scritta Dai per la pigna Scritta poi E che ci vogliamo Oltre a scrivere quella canzone Probabilmente Gli hanno detto Di cantarla Per un comeback E le ho detto Ok Kamisato Ding dong Oh Ayaka Ehi Ayaka Indovina chi è Ayaka Ma arriva dall'alto E c'ha terra Oh toma Di meno Oh mio dio Mi sta guardando Testa smettila di applaudire Smettila di applaudire Testa un attimo Contegno E' una ragazza Ok E' una tipa E' una tipa E' carina Concentrati Salutala Salutala Digli chi sei Come ti chiami Ok Principessa Salve Che piacere Kamisato eh Kamisato Da cosa viene Questo nome Molto orientale Molto esotico Ho inciso a parlare Con le ragazze Aiuto Non ci sono Cosa gli devo dire Vabbè faccio parlare Lei Travel el paimond Che piacere Incontrarvi Faccia a faccia Horridere Horridere Erika Ti hanno fatto uscire Dalla prigione Ma perché ti manca Un dente Aiaka Gareggia con Ganyu Per i danni Oltre che bellissimi Eppure fortissimi Guarda Il danno Che ha causato Quella cosa lì E' un po' irrecuperabile Ecco Noi abbiamo fatto Poco Eh non sei di queste parti Vieni spesso Qui in casa tua Eh quindi Aiaka Esatto Perché adesso Ci stai guardando Noi piccoli Schifosi Vermi mortali E sei così Ci metti così In soggezione Perché ora che hai fatto Le tre cose Che ho chiesto Ti ho chiesto Io considero Ti essere miei amici Come ti osservi Io dispensare Con la scena Per Toma Anche Ah è vero Mh So io So io amico So io amico Guarda Io e io Lei ci guardiamo Sempre negli occhi Bravo Toma Bravo Ti scegli i belli amici Comunque Guarda Io in realtà Ho già firmato Per essere un servo Però Paimon Tu fai quello che vuoi Ho visto Di museo Non il film Oh Infatti Prima ero un amico Oh Ok Ma perché Poi monoggio Fa sti versi Zitta Accettata Con questa voce Potrebbe essere O la tipa ragno O la Tipa farfalla In giapponese Sarà la tipa farfalla Non La La cadetta Ma quella master Ce l'ho azzeccato Così vagamente La La farfalla max La tipa farfalla Yes Fa azzeccato Non so neanche Che brava che sei Grazie C'è la La cadetta Piccolina E poi c'è la farfalla max Quella mezza verde Ehm Grazie Grazie Sandy Molto gentile Grazie Ehm Sembra un fatto peggiore della morte Voglio impressionarla Abbiamo vinta che un dating sim Non so coi quadri Più o meno I see I see Aiuterò Anche doppietto Vulu nella serie inglese Ma vuole il pokemon Bravo milady Te l'ho detto che si Avrebbe Vabbè ma Sta a farti vedere Ah Ok andiamo in un posto più privato Parliamo tra di noi Come tirare sulla ribellione Chi sto Quindi saremo dei ribelli Su quest'isola Ma questi missioni Sembrano davvero interessanti Eccoci Ciao Tom Vai a fare il palo Non è ancora un dating sim Ciao Tom Ok Ok Mi sembra proprio vivere da bystanders, ok Ha senso Ecco perché siamo qui Io volevo saperlo della diversione però non mi fico niente di sto posto Ok Allora, sì Vorrei capire Che dio è Raider Shogun? Cioè è tipo cattivissima? Perché prende le ambizioni? Non è un formulo che è rimanita Non ha emozioni Non è una sovrana ma più un'esecutrice Si può dire che ha Degli obiettivi ma non un'ambizione perché non c'è emozioni in lei Qualcun altro si sta opponendo a questa caccia alle visioni? Ah, quindi loro pensano che non abbia nessun tipo di implicazione Ah, quindi ci sono i rosiconi che dicono Vabbè, se te la togliono a me che mi frega Io non l'ho mai avuta Quindi è meglio se te la tolgono a te Così impari E poi pensano che non ci siano conseguenze Ha senso Quindi è indifferente Vabbè, non c'ha ragione Ciao Leiden, alla prossima To the Union To the Revolution No Shogun, sì, ribellione Paimon is getting mad Vabbè, ci fanno anche tutti un po' i cavoli loro C'è la loro vite Chi sono questi che resistono? Ah Ma sono dei nostri? Quindi c'erano dei ribelli che hanno perso la visione E hanno fatto un gruppetto Ci sono sempre stati dei conflitti fra loro due Però magari c'è qualcos'altro Non è che si basano solo su questa roba delle visioni Magari c'è qualcosa di più antico dietro Ma lei non lo sa Vi siete mai opposti formalmente? Tipo, noi non siamo d'accordo Pedizione Ma certo Ogni volta Che sono arrivati a Tenshukaku È stato sempre votato come No, grazie Va bene La proposta ma non la votiamo Come diria le zone? Ok, ci sono i Shogun Certamente se non interessa lo Shogun Non è che loro soppongono Ok Un'altra domanda Oh, oh Hyman ha una domanda Oh Cosa faremo? Per il momento All'altro che possiamo fare È provare a ridurre Il harm Che è stato causato Per questo decreto Ok È proprio andato 20 Che vuol dire Il problema che stiamo facendo È che il Master Masakatsu Che ci sta provando Con counterfeit visions Ha recentemente stato arrestato Per queste cose No, l'hanno arrestato Perché faceva le visioni false Liberiamolo C'è una Red Dead Redemption Andiamo a fargli esplodere Alla fine Stata della cella Quindi Lo facciamo vedere noi No, la facciamo Oh Andiamo con qualcuno Che ci può aiutare Benissimo Va bene Va bene Va bene Quindi abbiamo Ehi Abbiamo la missione Tamburo Abbiamo la missione Per domani Andiamo a Fare vadere un tizio E qualcuno Ci darà una mano E domani Scoprirò Perché lo sapete già Scoprirò Chi è questo tizio Da Da Che ci aiuterà Bellissimo Yes Che figo Stasettimana si va avanti Con queste missioni Poi abbiamo anche Le Fist Ranger Nostri random Anche da fare Proprio avanti Domani Mercoledì Perché oggi è lunedì Perché ragazzi Perché Come sapete Benissimo Io ovvio Che me lo ricordavo Volevo solo vedere Se eravate attenti Ed eravate attenti Bravissimi Io domani Alle 5 Sono live Ma non su questo canale Io sono A lavorare Per il signor Amazon Music Italia Perché domani C'è lo show La seconda puntata Dai che la prima È andata molto bene Domani Han già detto Che l'audio Sarà sistemato Perché avremo i microfoni A clip Quindi non vi preoccupate Sentirete tutto Molto meglio Qualsiasi tipo Di feedback È utilissimo Quindi Ci avete detto Dell'audio In realtà Non è che l'avete detto A me L'avete detto A loro Io conduco E basta Però l'avete detto Nel senso L'avete manifestato E siete stati Accontentati Qualsiasi altro feedback Potete assolutamente Presentarlo Ho un feedback Per Rolfix Eccolo Rolfix Grazie Dei tuoi dieci abbonamenti Regalo Grazie mille Yeee Anche su questo canale Lavori per Amazon È vero Anche su questo canale Lavoro per Amazon Grazie mille Rolfix Questa new feedback Per te Sei fantastico Grazie ai dieci abbonamenti Manca solo Cupcake Horny Un abbraccio a testa Per chiudere Che bel finale Che bel finale Allora Vediamo se posso chiudere Con la mia recensione Per Rolfix Ossia WeSport WeSport Team È bruttina Così Com'è? Vediamo le cover Che ci sono su sport Non sono Non sono d'accordo Non sono d'accordo Con nessuna delle cose Che ho appena sentito Mi dispiace Ciao mamma Amazon Ragazzi allora Mentre io cerco Una canzone Per chiudere La live L'ho scelta Domani Vi metto Tutti Il cd Le pentagill Ma do Prima della live Domani quindi ci saranno Due live Uno Stato Dal mio canale Amazon Sarà presente Aiello Come ospite Quindi andiamo avanti A scoprire Un ospite Alla volta Fighissimo Ci vediamo domani alle 5 Sul canale di Amazon Music Sarà ostato Sul mio canale Quindi se non lo trovate Comunque Connettetevi qua Che vedete dove sono Domani sera Alle 9 invece Si fanno le Ame Sempre sul mio canale Con ospite Yuriko Tiger Ciao amici Andate a dire Ai termosifoni Buona domenica Inizia a non mancare Le idee Vado Ciao amici Buona serata a tutti Grazie mille di essere stati Tantissimi And thank you very much From the The non-Italian guys Who decided to join us today If you are still there Hi Thank you This is Ciao amici Mamma mia che bella sta canzone A domani